Ciao a tutti amici di Non Aprite Questo Blog, qui è il Gons, benvenuti sul canale, ciao Iliose, grazie mille per i 100 bit, ciao Vittorio, grazie mille per i 100 bit, benvenuti sul canale. Oggi ho un ospite speciale, un po' perché è una persona veramente molto dentro al mondo delle storie e un po' perché ci conosciamo da un sacco di tempo. Sto parlando di Diego Caglielli, sceneggiatore di fumetti, aspettate che cambio schermata, eccomi qua. Ciao Diego, benvenuto. Ciao a tutti. Come stai Diego? Bene, bene, bene. Benvenuto su Twitch innanzitutto, la tua prima esperienza su Twitch, vero? Sì, 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 in assoluto sì. Mi sto divertendo, devo essere sincero. Già nei primi otto secondi. Bene, bene, sono contento. Io mi diverto parecchio, mi diverto parecchio. Sono contento di averti qua perché di solito parlo di cinema e mi piace l'idea di avere una persona che comunque di cinema te ne intendi, anche se la tua specializzazione professionale sono comunque i fumetti, giusto? Diciamo in primis. Sì, in primis sì. Diciamo che parte tutto dai fumetti, poi via via si è un po' espanso, ma avremo modo di parlarne. Ma si può essere scrittori di fumetti? Tu sei sceneggiatore di fumetti, adesso ti faccio una presentazione perché ho anche degli appunti. So anche scrivere. Ho imparato dopo che ho aperto il canale però. Gli appunti, gli appunti, mi divertono gli appunti. Sono molto curioso. No, per me gli appunti sono come un bastone per un anziano, hanno questa funzione qua. Tu sei sceneggiatore di fumetti in primis, racconti storie fondamentalmente, fai stand-up comedy o comunque scrivi anche per comici, giusto? Sì, sono uno degli autori di Zelig, ma tra l'altro dell'ultima edizione e altre cose. Vai avanti, ovviamente chiedi, mi divertono. Perché questo è un caso abbastanza raro e abbiamo appena ricevuto un ride da un altro canale. Cosa vuol dire? Un ride, ecco, allora questa live sarà un po' così. Tu ci racconterai un po' come si scrivono le storie, ci darai un po' di input e io ti spiegherò un po' come funziona Twitch. Volentieri. Attualmente Marai Chux, che non conosco e che ringrazio, mi ha appena fatto un ride con 11 utenti del suo canale. Ah, interessante. Questa è una cosa bella di questa piattaforma, che c'è un'etichetta o comunque un atteggiamento molto particolare che nelle altre piattaforme non c'è. C'è la tendenza comunque a supportarsi a vicenda. Molto bello. Degli streamer, anche molto grossi, che ti fanno dei ride e ti danno veramente la possibilità, se tu sei bravo, di emergere, comunque di avere il tuo pubblico. Chiaramente poi se non sei bravo, la spinta ti aiuta, ma poi non devi... Cioè diciamo che è proprio come la spinta in bici, no? Cioè tu, il papà ti spinge, ma poi se non pedali, puff, cadi per terra. Quindi ringrazio tantissimo, anzi se mi fate uno shout out a Max... Scusa, il nome... Marai Chux, scusa, Marai Chux. Grazie mille per il ride. Perdonami perché saluto un attimo la chat, perché questa... Vai sereno. È un'altra cosa che si fa tantissimo su Twitch. Allora, intanto ciao Iliose, grazie per i 100 bit. Ciao Vitto, grazie per i 100 bit. Ciao Raspberry Records, che sarai ospite da me domenica, non questa, quella dopo ancora. Benvenuti a tutti i, diciamo, i riders di Marai Chux, perdonami se ancora non ho imparato a leggerlo. Ciao Finco e gli zombie, ci siamo visti da pacione, grande, grande, grazie. Scusami, devo dedicare un po' d'attenzione anche al mio ospite adesso. Allora, dicevamo, tu scrivi fumetti, hai lavorato per Zelig, lavori per Zelig. Hai fatto veramente tantissime cose e sei, si può dire, piuttosto conosciuto nell'ambito del fumetto in Italia. Insomma, su quanti anni sono che scrivi fumetti? Eh, allora, dal 93. Eh, insomma, molte forze in chat non erano nati, però noi abbiamo anche una media abbastanza alta. Qualcuno ti conosce per Tex, qualcuno ti conosce per... Però posso dire che forse il punto più alto della tua carriera è stato essere, e lo spoiler, il mio professore di sceneggiatura. Grande, grande. Cioè, tu quando ti vuoi proprio far vedere, poi vuoi fare il figo, dici, eh, però sono stato anche lo sceneggiatore, l'insegnante di sceneggiatura di Joe. Del Gons, sì, sì, questo l'ho messo a curriculum. Tipo la terza voce, cioè... No, sono io che mi vanto tantissimo di dire che ho avuto il piacere di averti come prof, tra l'altro un prof molto giovane all'epoca, no? Eh, io ho cominciato forse anche troppo giovane, mettiamola così. Beh, ti sei fatto le ossa, dai. Sì, 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 sì. No, giustamente come dicevi tu, quello che faccio e che ho fatto, parlando al passato, parte tutto dai fumetti. Poi via via, da quello si è allargato su altri media, dove fondamentalmente ho lavorato per il cinema, ho lavorato per la televisione, sto lavorando per la radio. Per cui alla fine, grossomodo, io da un paio d'anni a questa parte sul curriculum ho scritto autore cross mediale, fondamentalmente. Perché poi passo dai palchi, dove faccio anche stand-up o presentazioni e cose di questo tipo. Mi occupo dei comici, ultimamente sto lavorando anche come storyteller di marketing, per dirne una, perché l'affitto va pagato, per cui bisogna fare un po' quello che arriva. E diciamo che ho sviluppato un'esperienza che abbraccia quasi tutti i media, tranne i new media come questo, perché sono vecchio. Si può dire che la parola è un po' come una spada, ci puoi andare in guerra e anche tagliare prosciutto, no? Sì, molto buono il prosciutto, tra l'altro, sì, 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 sì. Ho imparato ad adattare la mia spada, come la chiami tu, o il mio modo di scrivere, a diversi tipi di prosciutto. Eh, ma perché effettivamente, io credo, anche se purtroppo io non sono istruito come te, credo tantissimo nella parola e nel suo potere, no? Nella capacità, se uno la sa padroneggiare, veramente ci fai quello che vuoi e riesci a fare una cosa che trovo sia molto difficile per gli streamer, per gli influencer, eccetera, che è quella di farsi capire esattamente, cioè far capire esattamente quello che si vuol dire. Spesso si viene fraintesi sui social e spesso è colpa nostra, cioè spesso ci arrabbiamo con gli altri dicendo ma no, ma che cosa scrivi? Non era quello, però siamo noi, che non abbiamo un linguaggio che sia più universale possibile, più chiaro possibile. Poi c'è anche un po' di analfabetismo che, vabbè, funzionale, come si dice oggi, no? Sì, sì, tra le altre cose ho fatto e faccio da ghost per degli influencer, ma ovviamente non ti posso dire chi. Certo, e non è il mio ghostwriter, ragazzi. No, no, no. Non me lo posso permettere. Tu non lo sai, ma io ho anche delle risate che non le senti, ho delle risate da sitcom che adesso stanno andando. Ah, va bene, ok. Sono molto divertenti perché io quando entro in live depresso le metto su anche dicendo, guardate, oggi è morta mia mamma, è questo che va. Ok. Perché mi aiutano veramente a entrare in un mood molto demenziale. Ti faccio subito una domanda super profonda. Sì. Ma non è per farlo impressionare. Ci tengo veramente a sapere una tua visione. Oggi parliamo di storie principalmente. Che cosa significano per te le storie per il genere umano? Cioè, per l'esistenza proprio, cioè, filosoficamente o anche fisiologicamente. Che cosa significano, cioè, nella storia, oggi, ieri e nel futuro? Cioè, che importanza hanno detto proprio in parole povere? Allora, le storie fanno parte di quella che è la caratteristica principale dell'essere umano, inteso proprio come civiltà umana globale. Cioè, ogni situazione, ogni cosa che l'essere umano affronta, in un certo modo, se la racconta attraverso una storia. L'umanità è riuscita a evolvere attraverso le storie, è riuscita a creare mitologie, a creare proprio un contesto di società, attraverso la narrazione e le storie. E questo avveniva ancora prima della scrittura e ancora prima della stesura dei linguaggi. Se posso, intendi dire che io, per esempio, faccio una partita di calcio, gioco, e poi nella mia testa mi racconto com'è andata. Esatto. Cioè, la percezione che io ho diventa automaticamente il mio racconto di quello che è. Assolutamente sì. Io credo di aver giocato benissimo, aver fatto numeri incredibili, invece in realtà non è così. No, vabbè, poi dipende. Però diciamo che noi abbiamo la tendenza a scegliere. Nel senso, una delle tendenze appunto della narrazione, dello storytelling in generale, è che tu scegli che cosa raccontare al tuo amico, scegli che parole usare, scegli per esempio se fai una foto, se ti fai un selfie. Pensate a quanti selfie buttate via prima di scegliere quello che mettete online. Questa scelta è una scelta narrativa e lo è da sempre. Questa cosa poi può anche provocare dei disturbi psichici, cioè nel senso che uno è completamente svalvolato e ha delle scelte che non sono le scelte reali. Però dal momento in cui tu una realtà, qualunque, invece di viverla, la stai raccontando, stai compiendo un'azione narrativa. Per cui, e questa cosa parte, prima della scrittura, parte addirittura con le pitture rupestri. Nel senso, gli uomini delle caverne si dividevano in gruppi, c'era quello tosto, figo, bravo, con i muscoli che andava a cacciare, e gli altri un po' più sfigati che andavano ad accattare le cose. Poi, quando tornava dopo la caccia, il tizio raccontava la sua caccia, ma ovviamente la raccontava a seconda di quello che è la sua scelta, del suo punto di vista, e qualcuno disegnava sul muro delle scene di caccia. Già questa è una fortissima azione narrativa. Noi siamo circondati da storie. Noi con le storie educhiamo i nostri figli, con le storie impariamo le cose. Abbiamo bisogno di una narrazione costante. Noi siamo tutti narratori, anche se non lo sappiamo fare bene. Sì. Ok. Cioè, o bugiardi, a seconda di come lo vuoi vedere. Sì, ma infatti ti volevo chiedere, in questa descrizione che non mi sembra opinabile, diciamo, mi sembra abbastanza... Perché cerchiamo di dipingere sempre tutto, insomma, a nostro favore, ci dipingiamo... Cioè, è una nostra forma psichica per darci una specie di medicina che ci faccia stare bene, che ci faccia... Guarda, a questa domanda ha risposto King, Stephen King, ha risposto in una maniera meravigliosa. Purtroppo non mi ricordo il titolo esatto del romanzo in cui... Comunque se citi robe horror va bene qua, buttala sempre così. King dice, sia ringraziata la percezione selettiva, altrimenti ci ritroveremmo tutti in un racconto di Lovecraft. Infatti l'altra domanda che volevo farti è, il mondo è così brutto che forse è meglio dipingerselo un po' meglio? Cioè, o comunque così freddo a volte, può essere così profondamente oscuro che a volte è meglio vedere sempre... cioè, vedere più spesso le cose positive? E qua dipende soprattutto dalle bolle in cui ti muovi, però diciamo che grosso modo il mondo non è un bel posto, cioè, ma non è un bel posto per una ragione molto semplice, perché è difficilissimo che i nostri desideri più puri vengano realizzati esattamente per come li vogliamo. Ecco perché ci si sposta più favorevolmente nel mondo dei sogni, per dirne una, cioè, che è un mondo più gestibile, più facile. Però noi abbiamo bisogno in sostanza di allegorie e di narrazioni per riuscire ad accettare alcune cose. Facciamo un esempio, adesso io non vorrei offendere nessuno, cioè, non... quanto indora la pillola questo concetto narrativo, cioè, sei un povero Cristo che stai lavorando tutti i giorni in la terra, che non vedi una lira, che hai la pellagra perché stai mangiando solo la polenta, però sai che c'è il paradiso, cioè, questa cosa qua ti fa, in un certo senso, vivere meglio. Ti fa sopravvivere, in un certo senso. Ti fa sopravvivere. Per fare un altro esempio, se apriamo un altro social come può essere TikTok, improvvisamente scopriamo che io e te siamo due pirla perché non investiamo in crypto e non viviamo a Dubai. Per cui, anche quella è una grandissima narrazione e ci serve per indorare la pillola. Cioè, la percezione verso la realtà è una percezione che è personale ed è dettata da tutti gli archetipi che sono tutte le figure narrativi principali e da tutti gli temi che sono tutti gli incroci di storie che regolano la nostra vita. Le storie sono parte della nostra vita. Sai che sono proprio contento daverti qua? Anche se ora il livello è troppo alto. Sembriamo due filosofi. Ma lo dico, io dico sempre una cosa perché comunque, vabbè, non è che ho letto tanti libri, sono una persona intelligente ma non ho tantissima cultura. Però, dico sempre ridendo, il web è così pieno di incapaci che io sembro un intellettuale quindi posso giocarmi le mie chance. No, poi se rompiamo le balle a tutti in chat parliamo d'altro cioè non c'è problema. Comunque a me piace anche fare appunto una live un po' più libera quindi proprio per il discorso di narrazione di copiare le idee copiare le storie arriveremo anche a tutto questo. Ma Raichux che mi ha fatto il ride mi chiede posso copiarti le risate della sitcom? Allora ti faccio rispondere a te ma secondo te sta copiando se mi prende le risate? Le risate della sitcom no non le ho inventate io è un archetipo è una figura amiche mica archetipale ma poi anche di questo se ne possiamo attagare è un po' come dire che io ti cioè è un po' come dire io ti dico ciao e tu arrivi e dici ah bello questo modo di salutare posso copiartelo no puoi assolutamente prendere ciò che è di tutti no giusto ci stava questa domanda perché giustamente uno streamer le risate fanno che cosa fanno le risate della sitcom fondamentalmente ti fanno ridere anche se la battuta non fa ridere sono un supporto emotivo un supporto infatti io lo uso per quello perché non essendo io simpatico butto ma anche perché poi cioè la la questione primaria delle storie è quella di creare un ingaggio emotivo è quella di creare un rapporto emotivo che può essere di qualunque tipo può essere aspirazionale può essere la paura può essere il divertimento perché attraverso questo rapporto emotivo io ti porto un contenuto e più questo rapporto emotivo è forte più questo contenuto arriva meglio verso te certo bene bene sono contento perché ci sono tanti tanti temi e effettivamente il mondo cioè appunto del saper scrivere tocca tocca tutti questi temi però prima voglio tornare un attimo a quello che fai che fai tu così poi passiamo a tutte le lucubrazioni allora tu hai anche insegnato alla scuola del fumetto appunto io sono stato tuo allievo uno dei migliori non mai assente proprio cioè ero sempre a fumarmi canne da qualche parte comunque no a parte gli scherzi hai insegnato anche all'università insomma ti piace insegnare insegno ancora cioè insegno insegno ancora storytelling e cross mediale e insegnare mi piace moltissimo perché per riuscire a spiegare delle cose a qualcuno devo prima comprenderle meglio io per cui in realtà per me l'insegnamento è un sistema per approfondire una serie di elementi una serie di tematiche una serie di di situazioni che di solito uno usa in maniera istintiva quando scrive e invece a me serve capire il perché cioè lo usi l'insegnamento un po' come traino per studiare di più sì assolutamente allora in questo anche se io appunto non sono non posso permettere di insegnare tante cose però dico sempre che quando parlo di cinema qua è una scusa in effetti per poter avere entrare dentro un film e andare oltre il mi è piaciuto non mi è piaciuto ma scoprire tutto quello che c'è dietro e quindi più o meno è la stessa cosa se non ci fosse chiaramente poi un pubblico che ne trae beneficio smetterei perché non avrebbe senso ok hai scritto anche un po' di libri no? hai anche scritto un libro sul web mi sembra sì ho scritto un libro si chiamava il manuale illustrato dell'idiota digitale e te erano gli albori però del web no? già iniziavano no più o meno era il 2015 2016 ah ok pensavo quello sul web sì mi sono messo a trovare l'origine di tutte le bufale è stato un lavoro feroce cioè andare a cercare quando viene portato una notizia falsa o comunque un modo di dire o una cazzata o una roba è andare a cercare l'origine della riverberazione poi è stato molto divertente ma molto molto faticoso come lavoro e poi ho scritto libri sulla scrittura hanno finito uno adesso che è in stampa dovrebbe uscire credo tra un paio libri sulla scrittura cioè per aiutare chi vuole iniziare a scrivere o chi sa già scrivere e vuole migliorare sono manuali tecnici l'ultimo che ho scritto è un manuale specifico di sceneggiatura va bene anche per chi non ha mai scritto nulla e dice vabbè mi metto testa bassa e invece quello precedente che è il libro di testo poi che uso in università però poi questo facciamo una parentese in genere passo io perché non mi piace che siano obbligati a comprare il mio libro per cui le dispense le fornisco io cioè è un libro proprio sullo storytelling dalla letteratura per cui partendo proprio dalla letteratura greca roma greca fino ai videogiochi cioè dove si vanno a ritercorrere per esempio tutti gli elementi che si incrociano io ogni volta che dico che voglio scrivere meglio mia moglie mi dice devi leggere di più c'ha ragione c'ha ragione di brutto no sapevo che aveva ragione ma volevo fartelo dire per ok però attenzione non è detto che uno debba per forza leggere libri cioè nel senso la lettura devi leggere chi sa scrivere bene però di solito chi scrive i libri sa scrivere bene di solito ci sono ottimi siti scritti da dio come non aprite questo blog non aprite questo blog altre cose che o articoli o cose cioè non è necessario infatti io leggo tantissime cose di cinema perché non mi annoiano se leggo delle recensioni approfondite o delle cose su registi non mi annoio se leggo letteratura mi annoio perché non sono abituato per esempio io leggo molti più saggi che letteratura cioè nel senso ma da sempre cioè nel senso sì mi piace leggere mi piace acquisire nozioni informazioni però ho sempre preferito i saggi cioè poi magari vado ad approfondire però nel senso parte per me da da quello poi infatti per quello secondo me che ho grosse difficoltà a scrivere un romanzo lungo cioè ho partecipato ad antologie con dei racconti medio-lunghi però forse anche per quello dovrei rituffarmi nella lettura di letteratura e basta per riuscire ad acquisire quel mood che ti serve però questa è una cazzata mia tramite anche se magari ci sono altre persone che ci ascoltano allora io approfitto sopra un attimo approfitto per incitare i miei spettatori a supportare il canale con i bit a regalare abbonamenti ragazzi mi raccomando dimostratemi che questi contenuti interessano perché se stiamo lì tutti timidini non non funziona poi soprattutto punto esclamativo Amazon cercate i libri di Diego Cagli e comprateli tutti ok ci sono su Amazon sì sì ci sono anzi lo faccio io anzi no moderatore fatemi un punto esclamativo Amazon da quel link potete comprare i libri di Diego e io riceverò una percentuale enorme di soldi enorme compriamo tutti la porta compaiono proprio macchine ville ogni volta che comprate guadagno una percentuale ridicola però fa niente fa niente si inizia dal basso grazie mille Giorgio per i 100 bit ciao Hiroshima saluto un attimo ciao Giorgio non ti ho salutato prima ragazzi scrivete in chat è vero che abbiamo subito iniziato scusami Diego mi ritorna la voce ah mi muto? no sento la mia voce sì non so perché è cambiato qualcosa forse io qua non ho cambiato niente e di là è muto adesso vediamo scusa ci mancava l'eco non hai messo la live per caso sottofondo con l'audio no vabbè niente niente vabbè fini della gag mi raccomando iscrivete in chat se avete delle domande adesso piano piano affrontiamo tutti gli argomenti poi magari andiamo anche un po' sul cinema che è il tema del mio canale allora allora io ti voglio fare una domanda vabbè tu hai scritto pertanto e poi è successa una roba che un po' ha colpito anche i media secondo me ha colpito te perché ho visto un'intervista e ha colpito anche i media perché si è riattivata se non sbaglio e poi dimmi tu se non sbaglio si è riattivato l'interesse nei tuoi confronti come autore non lo so cos'è successo poi me lo dici meglio tu diciamo col covid c'è stato chiaramente una crisi per tutti penso anche per l'editoria che vende tanto in libreria vende tanto in edicola quindi si iniziano a tirare re in barca insomma hai deciso di fare un'esperienza da rider che consegna non so cosa consegnavi proprio il cibo vino consegnavo vino ok hai iniziato a fare il rider poi hai fatto il rider per esigenza per non stare lì ad aspettare che le risorse esaurissero diciamo e poi hai fatto un podcast dove raccontavi la tua esperienza che cosa è successo nella tua vita in questo che casino va bene ok allora come diceva John Lennon la vita è quella cosa che accade mentre sei impegnato a fare altro fondamentalmente innanzitutto la cosa importante è che non è stata colpa del covid è stata colpa mia se mi sono ritrovato nella merda a un certo punto è coinciso diciamo è coinciso è stato proprio un insieme di fattori che sono andati a intersecarsi allora diciamo che vi stavo vivendo diciamo intorno 2017 2018 2019 un periodo molto stanco per quanto riguarda i fumetti per una serie di motivi che vanno dal non riuscire a fare esattamente quello che avevo in testa di fare per tornare al famoso discorso che dobbiamo indollarci la pillola per sopravvivere in quel momento lì mi ero un po' stancato di alcune dinamiche dell'ambiente di alcune cose che avevo contribuito io stesso a creare il fatto sta che avevo delle grosse grossissime difficoltà a scrivere cosa vuol dire? vuol dire che uno scrittore quando si mette a scrivere non dovrebbe soffrire il panico della pagina bianca e di quel maledetto cursore che lampeggia ma dovrebbe sapere che cosa filare fuori e questa cosa invece mi accadeva cioè avevo delle cose da fare delle cose da scrivere e non riuscivo a buttare giù una parola ne ho diciamo ho detto vabbè cosa facciamo proviamo a riallacciare i miei contatti con il mondo dello spettacolo che per un po' avevo abbandonato e ho cominciato a seguire dei comici fondamentalmente per cui pian piano mi stavo spostando intorno al 2018 2019 da la scrittura su carta all'autore per i comici che è tutto un altro lavoro poi se vuoi ne parliamo comunque poi è proprio tutto un altro tipo di lavoro per cui ho scelto con la tempistica ideale cioè nel senso nel febbraio 2020 parte il covid e si ferma tutto fondamentalmente tutto completamente tutto io ho tenuto l'agenda di quell'anno come promemoria perché a cavallo per esempio tra febbraio e marzo avevo tutte le settimane piene di autore da palco in luoghi che poi hanno chiuso fondamentalmente al che vi sono ritrovato con veramente una difficoltà a sbarcare lunari in più su questa cosa poi aggiungersi una separazione da quella che era la mia ex compagna e una serie di problematiche banali di gestione di bambino eccetera eccetera e una nuova storia d'amore che stava nascendo tutto questo mi ha veramente scombussolato io credo che sia una cosa proprio maschile quella di sentirsi te l'ho detto che ero molto sincero nelle risposte cioè non sono cazzi tuoi cioè credo che sia basta che non mi banni non mi fai un saluto nazista non so ho scommetto di essere per i non sai quelle cose non c'è che sarà mai però credo che sia io sono Diego sono un uomo sono cristiano sono così sono papà io credo che sia una prerogativa dei maschi di una certa età quella che se non hanno un lavoro sbroccano e io sono sbroccato letteralmente perché non avevo fisicamente nulla da fare per cui litigi con tutti ho mandato quel paese tutti e a un certo punto ho deciso di dire boh a me piaceva tanto quando ero ragazzino a fare il pony express qua è tutto chiuso ho un motorino vaffanculo vado a fare il rider e ho fatto il rider tra l'altro questa cosa mi ha permesso di viaggiare in una città vuota durante il coprifuoco è stata un'esperienza da veramente da esploratore c'era una situazione folle veramente folle solo che a quel punto mi sono detto ma perché quando facevo fumetti ero tutto contento di mettere fuori la cover del fumetto che stavo uscendo e adesso è come se stessi facendo il rider di nascosto cazzo che male c'è è un lavoro che problema c'è e allora ho fatto quel famoso post che è diventato virale che ha fatto milioni di cose e lì dimmi i numeri dai facciamo quelli che mostrano i muscoli ti dico che tipo dopo fai 26 ore ma telefonato rai 1 me lo ricordo il post devo dire che la cosa che colpisce è l'atto di coraggio è sempre perché in una società dove bisogna mostrarsi tutti i vincenti tu hai avuto il coraggio di dire mi sento comunque meritevole di tutto quello che ho fatto in questo momento va così ho coraggio e lo dico ed è stato molto ispirante per cui credo per quello che ha avuto questo me l'hanno detto me l'hanno detto non per me che io scusami devo ringraziare devo ringraziare Valerio no scusa non Valerione aspetta devo ringraziare Gliose che ha regalato un abbonamento a Valerione grazie mille grazie mille sì no ecco giusto per far ricambiare anche ti spiego anche che su Twitch praticamente gli spettatori supportano tanto almeno nel mio nel mio canale sì regalando abbonamenti ad altri spettatori che eventualmente sono più invogliati anche a continuare questa cosa e tenere l'abbonamento il concetto qua è che devi pagare per le cose per mantenere vive le cose di qualità poi è chiaro che se tu guardi su Twitch uno dormire non vuoi dargli i soldi ti capisco benissimo però diciamo che io nel mio piccolo porto contenuti interessanti divulgo cinema quindi poi oggi ci sei tu che hai anche tutto il tuo bagaglio culturale da portare quindi io spero che i miei spettatori capiscano l'importanza di sostenere il canale quindi ci sono ci sono queste cose però giustamente bisogna anche ringraziare fa parte dell'etichetta di Twitch ringraziare quando uno paga insomma aiuta con un vero contributo poi io parlo spesso di social perché sai che lavoro nel web da tanti anni quindi me ne intendo le capisco parlo sempre del fatto che oggi si viene pagati in cuoricini ma con i cuoricini poi non ci paghi nulla invece qua fai veramente una selezione di persone che sono interessate a quello che fai e anche se hai 20 spettatori e non ne hai 200 però hai 20 spettatori che sono interessati veramente che sono abbonati e che ti supportano quindi e poi sono sono anche molto ricettivi perché si crea un vero rapporto quindi quando consiglio i film li guardano e questo sicuramente mi fa molto bene mi fa molto bene anche l'abbonamento regalato però mi fa molto bene anche vedere proprio la foto delle persone che mi mandano mi dicono ho comprato questo film di cui hai parlato l'altro giorno quindi questa è un po' la mia esperienza su Twitch non credo che siano tutti uguali però tornando a quella cosa lì ti dico io stavo facendo la battuta io cerco di mostrare solo il meglio di me e non lo farei mai per quello cioè se dovessi fare il lavapiatti col cazzo che lo vado a dire in giro no sto scherzando ovviamente vorrei no però vorrei anche cioè mi sento anch'io vittima del dover sempre mostrare il lato migliore di me perché se no per cui io ci vedo tantissimo coraggio e quello che hai fatto è stupendo ma la cosa figa non è tanto che quella ma che dal mio punto di vista è che hai trasformato quella cosa lì nel tuo lavoro cioè tu hai preso fare il ponio fare il corriere e l'hai trasformato nel fare lo storytelling comunque cioè se io ti io ti do da imbiancarmi casa domani fai un post con ti chiama Sky e ti dice senti facciamo una trasmissione sui imbianchini perché hai fatto un post sulla rivincita dei nerd che capisci tu trasformi nel tuo vero lavoro che è raccontare storie trasformi qualunque cosa che fai ringraziamo che non ci sono ancora foto del water e queste cose qua ok no ma cioè nel senso lì è chiaro che io ho un occhio verso la realtà che è un occhio narrativo cioè io mi sono sentito ma fin da subito lo sapevo che non avrei fatto il rider per sempre cioè perché a parte che sono vecchio e vabbè poi vabbè con la fortuna che mi distingue l'ho fatto d'inverno però vabbè preferisco il freddo che il caldo però il concetto è che quando una cosa la vedi riesci a raccontarla meglio era un po' il famoso discorso che si faceva tra Hemingway e Salgari cioè nel senso succede anche a me con i film quando non li vedo non riesco a scrivere una parola ci credo confesso che sui film ogni tanto io mi guardo i primi 20 minuti e poi decido che non mi piace e spengo no ma quello non è un crimine secondo me anzi io ho fatto una lunga live sul fatto che secondo me le serie tv sono molto cioè è difficile trovare una serie tv che abbia un fine artistico spesso sono prodotti buttati proprio a tonnellate vengono anche scritti dopo ne parliamo vengono anche scritti in modo da essere prolungati allungati o creare l'effetto alcuni hanno l'effetto che ogni fine episodio deve invogliarti altri hanno sono fatti in modo però comunque sono tutti i prodotti che sono molto simili ai prodotti secondo me perché partono da un form mentre invece i film questa è una cosa che dico sempre hanno perché hanno una storia molto più lunga hanno tutti i loro canali cioè ci sono sì i film che sono dei prodotti punto e basta però esistono i film d'autore i film indipendenti i film artistici la video arte e tutti questi tipi di filmografia hanno anche i loro promotori cioè Cannes è un grandissimo trampolino per il cinema d'autore Venezia il cinema indipendente ha tantissimi festival in tutto il mondo mentre invece le serie sono proprio un prodotto per ora però non dico che non ci sono serie di qualità e serie che provano a essere artistiche però dico sempre sono prodotti quindi se fanno cagare non guardatevi 16 puntate da un'ora perché la vita è preziosa potete vedere in quel tempo adesso non voglio fare il pesantone però potete vedere Bergman Pasolini insomma tante cose che vi ma Hitchcock per dire uno più abbordabile più leggero quindi dico sempre che non vale la pena sprecare il tempo quindi anche il film brutto se uno poi ha le competenze per dire no questo film sicuramente non mi regalerà nessuna emozione ad abbandonarlo ci sta sulle serie cosa ne pensi visto che ormai ho introdotto le serie allora guardo più film che serie se devo essere proprio sincero molti più film che serie fai conto che io ho una media di almeno un film al giorno almeno cioè come come logico vado proprio a ondate a volte devo vedermi tutto quello che c'è su un determinato argomento mi ricordo un po' di tempo fa ero entrato nel loop dei sottomarini ma senza motivo cioè mi sono guardato tutti i film al mondo sui sottomarini soprattutto di guerra saranno soprattutto sì soprattutto sì però non so perché perché poi non è che ho dovuto scrivere una roba sui sottomarini cioè mi lascio guidare da questi miei istinti le serie allora io noto che c'è un grosso enorme gigantesco lavoro di marketing sulle serie ovvero anche lì parliamo di narrazione perché la narrazione di una narrazione è essa stessa una narrazione dopo questo dovremmo basta esplodi tutto riusatina metti la riusatina perché non solo devi guardare la serie che guardano tutti in quel momento lì perché se no sei uno sfigato ma deve anche piacerti e a me questa cosa a prescindere mi sta sul cazzo sì sì io ho bisogno non dico di andare per forza controcorrente perché non sono fa ridere fare il punk alla mia età anche se lo sono stato da giovane però il concetto è ma se tutti guardano quella roba lì ma guardatevela voi io mi guardo qualcos'altro infatti ci sono delle serie alle quali sono molto affezionato che sono quelle che o non hanno avuto successo aspetta per i consigli sulle serie dovete regalare abbonamenti e donare ok va bene vai abbonamenti e donazioni a parte gli scherzi se ti va di consigliare qualche serie siccome il consigliare serie poi ne parliamo siccome oggi c'è questo consumismo appunto dei media c'è un altissimo tasso di consumismo di film e di la gente sta impazzendo cioè il ruolo dell'influencer o del microinfluencer diventa veramente fondamentale per avere una sorta di guida su quello che ti piace il tuo approccio nell'ambito artistico per cui infatti chi segue me di solito non perde tempo cioè inizia proprio a trovare la sua strada sulle cose che gli interessano allora il tema è questo che secondo me è veramente ricercatissimo il tema del consiglio però il consiglio deve avere anche una persona dietro che si deve guadagnare un po' la tua stima il tuo rispetto quello che era il critico quello che ormai è inesistente cioè ormai il critico è sparito dai radar e fanno i riassunti delle trame che non è fare il critico ma tu ti riferisci a chi si si finge critico come potrei essere io per esempio chi si propone come critico io poi come ti ho detto leggo un botto di roba in giro cioè non fa un'interpretazione emotiva dell'opera che ha visto ma fa un riassunto del plot dicendo bello brutto ci primerlo amici come io che poi bello brutto poi alla fine non è non è una critica è semplicemente il tuo giudizio no ma poi la cosa che mi stupisce è che nel mondo diciamo della crossmedialità o comunque del mondo dell'ipertesto che è il mondo in cui siamo in questo momento noi tutti non ci sono riferimenti all'interno di queste pseudo critiche a diciamo altre opere che potrebbero in qualche modo avere a che fare con quell'opera lì cioè per cui se ti è piaciuto questo film prova a vederti anche quest'altra questa cosa non c'è cioè non c'è un'analisi di storytelling c'è un Gino va dal barbiere barbiere ritaglia la gola Gino muore ma questo non è la critica del film certo mi viene l'esempio tipo di Midsommar che pochissime recensioni hanno citato The Wicker Man o comunque l'hanno ma anche Picnic Adending Rock per dirne un'altra sì no beh poi lo so che è un'altra rivista anche se su quello io devo fare un mea colpa su quello sulle citare i film nei film sono molto in difficoltà perché ma perché spesso proprio non me li ricordo mi sono spiegato male io cioè no aspetta non è che per recensire un film devo andare a scovare quali sono tutti i punti narrativi presi da altri film ma semplicemente io posso dirti che Midsommar oltre a essere uno dei più belli horror secondo me che ho visto nell'ultimo periodo cioè perché non ha l'effetto non ci sono queste cazzo di luci tendenti al verde grigio che mi hanno roto i coglioni perché l'atmosfera arriva d'altro anche oltre all'opera precedente del regista ha dei legami da un punto di vista proprio di emotivo di tensione emotiva con altre produzioni ma sono legami emotivi sono legami di tensione di una narrazione fortemente disturbante in ambiente esterno e non in ambiente interno e il primo film che ha usato quel tipo di logica è stato Picnic a Denging Rock perché non me lo dici cioè non tu non tu in generale sì 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 allora lato mio lato mio mi piace anche l'idea di fare un po' di autocritica lato mio indubbiamente perché non ho una una cultura così vasta di horror di horror di cinema e poi perché anche quando ce l'ho poi io mi dimentico proprio i film quindi ho proprio difficoltà tant'è che spesso dico guardate io la recessione la faccio due o tre giorni dopo aver visto il film oppure si riducono pian piano che passano i giorni poi vabbè adesso prendo appunti e tutto però si riducono proprio la freschezza dei miei pensieri sarà che io sono limitato mentalmente proprio e quindi arrivo a un punto che non mi ricordo niente per cui anche Midsommar Midsommar l'ho visto due o tre volte anche la versione estesa eccetera quindi me lo ricordo però faccio molta fatica per cui un po' è questo e un po' è quello però nelle mie analisi quello che faccio e che cerco di descrivere anche chi mi segue è cerco di guardare quello che vedo non di giudicare quello che vedo di guardare quello che vedo e faccio sempre un parallelo a quando ero giovane andavo sempre alle mostre io andavo alle mostre ma ogni due settimane andavo a una mostra Chagall tutta sta gente qua quando andavo alle mostre io non sapevo un cazzo di questa roba cioè anche a scuola non ho studiato fino all'arte moderna cioè quindi andavo fissavo il quadro e iniziavo a farmi delle domande dicevo perché quello è lì cosa significa cosa potrebbe significare e ho capito una cosa che tu fissando guardando tanto un po' capisci quindi diventando veramente un osservatore non un giudicatore ma e un po' anche trovi delle verità che sono verità tue assolutamente sì quindi è come l'arte diventa anche qualcosa che sfugge dalle mani dell'artista e racconta qualcosa attraverso te e lì diventa il fascino perché poi non sei solo tu una di quelle porte ma ci sono tante altre porte che stanno guardando quel quadro quel film quindi si creano tantissime e questo è un po' il mio approccio quindi io non ho bisogno anche se è comunque una discreta cultura cinematografica discreta proprio anzi meno di discreta ce l'ho perché è un po' a scuola anche a scuola del fumetto si studiava cinema il mio suocero è critico cinematografico e mi sento sempre un tonto quando parlo con lui di cinema però mi è anche utile comunque penso che non mi serva così tanto poi è vero anche che tu sai che io faccio l'art director ho fatto la scuola del fumetto conosco le inquadrature cioè ho comunque un background che non è da critico cioè persona che ha studiato storia del cinema ma da artista comunque quel sistema che tu hai di approcciarti alle opere o quello che hai raccontato adesso si chiama metodo spranzi spranzi era un critico d'arte forse ancora vivo non lo so che a metà degli anni 80 fino a metà degli anni 90 ha lavorato moltissimo sulla decontestualizzazione della critica precedente ma sul fatto che lo spettatore dell'opera d'arte dovesse trovarsi diciamo privo di metatesti per cui privo di tutto quello che di quell'opera era già stato detto e di vivere l'opera in maniera personale nuda interrogandosi se stesso e l'opera e trovando appunto questa diciamo corrispondenza ad amorosi sensi se vogliamo dirla come la direbbero quelli che hanno studiato per cui il concetto è molto importante trovarsi nudi di fronte all'opera e se parliamo di cinema per esempio a me fanno sorridere quelli che sanno tutti gli aneddoti sulla produzione quelli che sanno ogni singolo cazzo dell'attore o di ogni tipo di problema produttivo che c'è stato perché in realtà ti stai perdendo ti stai perdendo nella non arte nella non arte ti stai perdendo tutto l'afforso emotivo che ti può dare quella produzione ecco cioè e tornando alle serie sì bravo che rimetti comunque è bellissimo questo discorso e mi fa piacere come tu abbia capito benissimo perché sei una persona estremamente intelligente che io non sapevo chi cazzo fosse questo beh ma nessuno lo sa lo so io perché mi sono roti i coglioni con queste robe qua comunque una cosa bella questa mi riconosco tantissimo in questa cosa ma l'ho fatta per sopravvivenza perché ero un ignorante quindi da ignorante volevo guardare l'arte e imparare a interpretarla volevo usare solo la mia intelligenza perché ero pigro non avevo voglia di studiare o leggere il cartellino di fianco all'opera ma secondo me questo è l'aspetto migliore a parte che adesso finisco l'unica cosa che ci tengo a dire spero che penso anzi sono abbastanza sicuro che tu l'apprezzerai perché sei appunto amante studioso nerd poi cosa faccio visto il film vengo qua ne parlo ma poi vado anche a vedermi tutto il resto cioè che cos'è chi è chi è cosa ha fatto cerco di vedere anche interviste hai un cane ho un cane che abbaia ma secondo me non era d'accordo con quello che ho detto secondo me si è svegliata storta che stava pennichellando e adesso vuole le coccole però è una femmina le femmine mi odiano di tutte le specie tra l'altro qua stanno dando le risate te lo dico perché mi spiace escludere qualcuno da purtroppo ragazzi non posso far sentire l'audio del desktop quindi devo raccontarglielo ok è una live accessibile solo per per alcuni dicevamo le serie le serie consigliamo un po' di serie va allora nel senso che ci sono delle serie che secondo me sono meravigliose e sono passate molto in secondo piano una che tra l'altro è una delle serie preferite dalla mia ragazza è Pish ah ok ok si si è un po' splatter giusto? no è una commedia cioè ma è quello con l'attore di Better Call qualcosa? no no è proprio Happish nel senso scritto proprio H P P Y I S H una serie di un po' di tempo fa ha fatto una stagione sola ed è di un humorismo violento e ferocissimo verso la società contemporanea americana più americana che sì ci ritroviamo anche perché poi noi siamo un po' il riflesso di quella noi siamo la versione tarocca della loro società la versione della Lidl cioè questa è mi ha colpito moltissimo alcune cose le ho usate nella mia vita di quella serie lì cioè sì sì c'è la storia di questo scritto di questo diciamo l'autore che lavora in un'agenza pubblicitaria non è un figo alla Don Draper di stile Mad Men ma è uno che ha molti problemi in quel momento lì che vorrebbe scrivere un romanzo e tutti gli dicono ma perché scrivere un romanzo cioè nel senso la gente non legge più alla gente per ispirarsi basta leggere le frasi motivazionali sulle borse cioè ed è è geniale è una serie geniale poi appunto perché si parla poco di serie italiane ce ne sono due che mi hanno colpito in una maniera feroce sono tutte e due gratis su Rai Play che sono la linea verticale una è quella sui vampiri no la linea verticale cioè è uno delle ma te ne vieni fuori con delle robe veramente sconosciute ma non sono horror vero comunque no no non sono horror voglio di roba horror e basta no vabbè sarebbe sarebbe più a tema però c'è l'unico che è in fissa totale sono i no non è vero guardo anche gli altri film ma meno perché alla fine per lavoro li guardo guardo solo horror fondamentalmente ok va bene allora ci ripenso vi formulo che cosa che serie horror ho visto che però che mi siano piaciute cioè allora te ne dico te ne dico ti dico quelle che consiglio io e tu me le stronchi va bene vai prova vai allora io io consiglio sempre Midnight Mass le vista quella di ne ho sentito ah ok quindi non me la puoi cassare no non l'ho vista vabbè allora passo all'altra Black Summer Black Summer l'ho vista allora è una serie di zombie la prima stagione è così così carina abbastanza cerca di essere un po' più realistica delle altre serie di zombie ma la seconda stagione è molto bella secondo me perché racconta intanto ha un montaggio alternato un po' non mi ha colpito moltissimo a me mi ha mi ha incupito tantissimo la spietatezza che c'è e soprattutto il personaggio della madre come diventa molto c'è tutto questo rapporto tra madre e figlia la madre ammazzerebbe chiunque pur di salvare lei e la figlia quindi mi è piaciuta mi è piaciuta parecchio ma mi è piaciuta parecchio per come come viene raccontata per esempio c'è una scena in cui c'è sta benedetto tu l'hai vista tutta? sì c'è questa porta che cigola che sbatte che va avanti io ho adorato quella scena perché crea cioè è lunga crea una tensione pazzesca e poi alla fine c'è questa porta che fa rispetto alle altre serie di zombie è quella che ha una regia è una sceneggiatura molto più adulta rispetto alle altre a mio parere cioè ha proprio una gestione dei momenti di tensione completamente diversa poi se parliamo di serie zombie io sono purtroppo purtroppo perché sono un pirla sono un grande fan di Zeta Nation no vabbè ma non si prende sul serio io la considero una buona serie è un po' è una nerdata è una nerdata che diventa assurda in certi momenti mi ha divertito da morire lo tsunami di zombie cioè guarda veramente la terza vai dammi dimmi la terza basta basta ah sono due ok no non lo so io non amo le serie ti posso citare Twin Peaks giusto per salvarmi in corner mi salvo con Twin Peaks perché vabbè quella è nessuno può dire che sia una brutta serie no no la guardava anche Homer anche se non ci capiva niente ma anche io non ci capivo niente comunque ho una domanda sulla tua esperienza Rider perché mi interessa alla fine in soldoni come ti ha cambiato diciamo fare un lavoro tra virgolette normale cioè non artistico mi ha cambiato facendomi diventare molto più sincero è vero nel senso perché prima non è che raccontassi palle però prima era come se avessi una facciata da mantenere allora se mi si parlava della Bonelli era tutto bellissimo se non si parlava di un autore siamo amici sui invece mi ha fatto rendere conto che non è necessario raccontarsi delle palle la realtà alla fine anche se ti pigli ammazzate e anche se sono alle tre di notte con meno due sul motorino alla fine cazzo sono sempre io capito cioè non è che cambio sono io cioè e ho un valore indipendentemente se ho scritto un bellissimo Dylan Dog o se sto portando a te del vino cioè non ho bisogno di sovrastrutture non so come dire per cui mi ha cambiato in quel senso lì cioè c'è c'è questa questo diktat della società che arriva probabilmente moltissimo dall'America della della competizione dell'essere dei vincenti a tutti i costi il concetto di loser il concetto di vincente è stato rafforzato dalla colonizzazione diciamo americana no culturale quindi ora con i social ancora di più no cavolo sì quindi però secondo me tu e anche altre realtà danno uno spiraglio di anche a persone che non non la sposano questa cosa non si può vivere costantemente in competizione cioè nel senso perché è deontologicamente sbagliato cioè facciamo un esempio facciamo tinta che io e te facciamo lo stesso lavoro no magari in due ambiti diversi io sarei più bravo per esempio esatto perché devo schiacciarti cioè se tu ottieni un successo io sono contento per te cioè nel senso e invece qua è che bisogna rimare perché scatta l'invidia perché scatta l'invidia ma che cazzo no ma io lo dico ma non lo dico da persona che se ne toglie lo dico da persona che prova invidia cioè a me capita di provare invidia e quando la provo mi vergogno un po' di me stesso dico ma scusa ma perché devi provare invidia tu hai le tue cose hai i tuoi risultati e lì riesco un po' a ridimensionare la cosa e dico no in effetti non devo essere invidioso di questa cosa qua però io lo vedi adesso siamo oggi voglio sposare il tuo la tua filosofia voglio essere sincero provo invidia non riesco a capire perché forse c'è una continua fame di conferme no della propria del proprio valore c'è una mancanza comunque di fondo di autostima in tutti forse sì cioè nel senso io l'invidia l'ho provata molto molto forte anche e ho dovuto fare un grossissimo lavoro su me stesso per capire il perché e questo tipo di lavoro l'ho fatto in motorino cioè non l'ho fatto da uno psicologo cioè non perché stai cercando di renderci un nuovo tipo di terapia che si fa in motorino sì andate a fare i rider di vero iscrivetevi al iscrivetevi al corso di psicologia in motorino che è una nuova ci ho dovuto ragionare tanto fare i miei ragionamenti capirmi cioè arrivare a capire me stesso sul perché in quegli anni rosicavo così tanto cioè e poi ho capito che alcune cose della vita non dipendono da quello che facciamo noi cioè non sono legate a un insieme di elementi sui quali noi non possiamo avere il controllo cioè per cui se è andata così se è andata così cioè i treni non si perdono i treni arrivano in ritardo capiamoci voi hai perso il treno col cazzo se ho perso questo treno prendo quello dopo esatto se fai la metafora del treno i treni di solito sono a tutti gli orari quindi esatto per cui che cazzo vuoi hai perso un treno cioè no questa cosa è sbagliata e soprattutto è sbagliato trasmetterlo ai ragazzi cioè ed è una cosa che io sto cercando di trasmettere a mio figlio per vivere per farlo perché lui vive meglio indipendentemente se fa il pizzaiolo a parte che il pizzaiolo guadagna un sacco di soldi o l'idraulico esatto l'idraulico guadagna e ti scopa pure la moglie esatto cioè ci sta la battuta volgare a un certo punto ma perché è archetipale per quello cioè non funziona perché lavora sugli archetipi comunque cercherò di sposare anche io la tua filosofia ma in realtà non ne soffro tanto però umanamente come tutti ogni tanto ti scatta e dici ma uffa quello così cosa ma non è giusto però chi se ne frega insomma allora io ho un po' di domande sparse però vorrei iniziare anche a parlare un po' più dello scrivere storie secondo te la pandemia influenzerà tantissimo il modo di scrivere le storie che scriveranno da adesso in poi ci ha cambiato psicologicamente come esseri umani ah sì cioè questo è successo certo psicologicamente come esseri umani ci ha cambiato per cui è chiaro che quel tipo di esperienza raccontata attraverso tutte le metafore possibili si riverbererà anche nella narrazione però di base questo è una cosa estremamente creativa la parte produttiva però ti chiede di non parlarne la parte produttiva non ho capito ti chiede di non parlarne cioè i diktat maggiori dalle parti delle produzioni sono di non parlare di quegli anni lì invece noi abbiamo bisogno di parlarne giusto perché è catartico sarebbe giusto però se facciamo un parallelismo con la grande stagione dei film del vietro sul vietro mi sono arrivati una decina d'anni dopo la conclusione della guerra del vietro sì quando poi era lontano era nel passato e serviva come catartico quindi dobbiamo aspettarci tra dieci anni un sacco di film sul covid secondo me sì cioè da un punto di vista narrativo mi fido assolutamente però secondo me bisogna aspettare ancora un po' prima di vedere una realizzazione di un'opera con quel tipo di struttura alla sua base mi immagino già un'ondata di film horror sul covid film comici sul covid giochi sul covid videogiochi sul covid caramele al sapore di covid speriamo di no ok fantastico allora io voglio parlare anche di una cosa voglio pubblicizzare ai miei tantissimi spettatori il fatto che questo mese esce il buon vecchio dylan a fine mese esce dylan dog come si chiama il titolo cavalcando il fulmine parla di uno siux condannato a morte che non è spoiler no no vai tanto è scritto si parla di sedia elettrica per cui è una grande è un insomma un guerriero siux che insomma non fa una bella fine su questa sedia giusto ok allora si è una citazione ovviamente da ride a lightning dei metalli ah ok ok perché dove non c'è il ciu cioè è la sedia elettrica che è la protagonista entriamo entriamo nel vivo di dylan dog perché intanto è un argomento horror visto che esce il 26 mi sembra il 30 mi sembra di dylan dog disegnato a corrado roy che è storico ma è un po' espressionista roy è un po' sì cioè a me ricorda moltissimo cioè il cinema proprio espressionista tedesco tedesco sì sì il gabinetto del dottor caligari lui ma anche anche zezeli è molto espressionista sì zezeli è più tonale secondo me che è espressionista ok comunque comunque roy è un capo insomma assoluto un capo assoluto fa molto figo uscire con con roy no ci siamo sentiti al telefono e io mi sentivo un ragazzino cioè avevo le gambe che tremavano ancora adesso dici sì 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 no lui è un capo assoluto un capo assoluto scusa volevo dirti volevo dirti come si a proposito di questo numero che esce disegnato da roy e scritto da te come si crea una storia nuova di dylan dog cribbio come si fa a creare una nuova storia di dylan dog quanti numeri sono eh 430 tu mi dirai tex è anche peggio no? tex è anche peggio sì di dylan dog sono 433 numeri più tutti gli speciali tutti gli extra tutti i color tutte le note per cui secondo me siamo abbondantemente sui 600 titoli cioè ma forse qualcosa anche di più allora sai che come si fa a creare una storia nuova per dylan dog cercando la tua voce interiore nel senso adesso non vorrei sconvolgere troppo le masse però è già più o meno dalla fine dell'ottocento da quando un gruppo di pensatori russi capitanati da un certo signore che si chiamava Vladimir Propp ha stabilito che le trame al mondo sono soltanto 35 cioè noi sono millenni che ci raccontiamo sempre le solite 35 storie fondamentalmente cambiano in base ai tempi cambiano in base agli archetipi ai personaggi però di base noi da Omero in giù ci stiamo raccontando sempre solo e soltanto 35 storie e le combinazioni che si possono fare come se fossero dei mattoncini della legge che cos'è che però in realtà diventa importante diventa importante la voce di chi ti sta raccontando quella storia lì perché tu hai la tua voce io ho la mia voce lui ha la sua voce io dico sempre è il come le racconti esatto quindi la storia è sempre quella ma tu la racconti in tanti modi diversi motivo per cui io dico sempre che il problema non sono i remake o quelli che poi sono in realtà dei film copiati ma come vengono fatti poi in realtà perché ci sono dei remake che sono delle copie sputate fatte male poi ci sono dei remake che sono invece brillantissimi sono anzi addirittura diventano questi dei cult e il film originale finisce nel dimenticatoio diciamo vedi Capfear Scarface esatto e addirittura forse adesso Scarface non me lo ricordo però Capfear si potrebbe anche dire che è migliore quello di Scorsese nel senso che ma lo dico perché comunque il regista di Capfear il primo disse che era un capolavoro quello di Scorsese talmente era riuscito a prendere quel plot lì e ributtarci dentro di tutto di più sì cioè allora io sono molto molto affezionato di entrambi però li tengo come se fossero separati e distinti cioè per no dai è meglio quello di Scorsese ho cambiato idea ok anche solo io lo metto azzardando perché effettivamente è molto bello anche l'altro perché comunque a parte che vabbè scoprire cioè io non pensavo Robert Mitchum fosse così bravo in realtà perché non lo pensavo nessuno perché comunque mi ricordavo i vecchi film da bambino quindi riscoprire questi film oggi e vedere Robert Mitchum così bravo dicimi ma questo Robert Mitchum sembra veramente un fottuto bastardo poi ho visto anche recentemente appunto la morte corre sul fiume e ho detto vabbè ma quello era proprio non sta recitando è proprio un maledetto è bravissimo però appunto dico poi alla fine il tema il tema che le persone tirano sempre fuori è questo astio nei confronti dei remake astio nei confronti delle solite storie e non si concentrano mai invece su come vengono raccontate perché appunto come hai detto tu io non sapevo quante fossero e quante fossero state teorizzate le trame però perché non me lo ricordavo questi sono anche i temi di cui si parlava appunto a scuola quando ero un ragazzo però appunto poi alla fine dipende come come le racconti ma anche come le intrecci oppure non si intrecciano specie le intrecci tante ci sono tanti casi in cui vengono queste storie ne vengono intrecciate quattro cinque o sei oppure di solito sono combinazioni di poche no allora la maggior parte delle volte si usano veramente dei plot base e se ne usano sostanzialmente tre cioè per la maggior parte tre mescolati intendi tre mescolati insieme insomma oppure sono delle sottotrame cioè trame parlo del plot principale cioè dei subplot o comunque delle trame secondarie è un discorso a parte cioè però il plot principale di una storia di solito se ne usano grossomodo veramente tre ti faccio una domanda prima che mi sfugge vedo dei film molto belli soprattutto perché non riesco a capire dove vanno a parare ok e sono anche girati bene e quindi dico che figata mi sento proprio incuriosito mentre invece ci sono anche altri film girati bene dove so esattamente come andrà a finire e va esattamente in quel modo come mai accade questo? perché viviamo in un'epoca post moderna cioè nel senso il post moderno non si esaurisce soltanto col dire faccio una citazione o prendo una trama o ti metto in metallica dentro Strange and Things cioè il post moderno non è soltanto quello il post moderno è essere consci che il nostro pubblico ha un background di narrazione e di storie molto elevato ed è quella la chiave della post modernità cioè io non posso lavorare sul pubblico di oggi come lavoravano quelli che lavoravano sul pubblico degli anni 70 degli anni 80 anche perché oggi siamo stupivano con ogni cosa praticamente esatto cioè per cui in più il lato post moderno ha delle tecnicamente si chiamano deformazioni della percezione narrativa cioè facciamo un esempio horror la croce delle sette pietre sai che non l'ho visto però mi deve arrivare mi deve arrivare l'edizione perché ho visto che è uscito da poco quindi sono curioso se me lo dici e dopo lo guardo sì sì la croce delle sette pietre che è penso il peggior film mai realizzato al mondo la gente lo guarda per una deviazione della percezione lo guarda perché è brutto ok e gli piace perché per esempio il personaggio della cugina in una sequenza è un'attrice e in quella dopo un'altra giusto per farti un esempio cioè di base però sei morta durante le riprese non ti preoccupare cioè lì è una roba però di base il plot centrale è una figata ma come lo era in plan 9 from other space di Ed Wood cioè da un lato abbiamo un lupo mannaro contro la camorra che già te lo dico così cioè dai in mano questo soggetto uno che sa fare le cose diventa figo dall'altro lato da Ed Wood abbiamo gli alieni che risvegliano i morti per conquistare la terra solo che se lo fa Romero viene una figata poverino se lo fa Ed Wood ci sono le tombe di cartone con Beast che fa così cioè però ci mette anche il bravo regista il bravo artista ci mette appunto quella componente personale è la voce è la voce che te la racconta la voce però ci devi mettere come dicevi tu che sei andato a fare il ride ti chiedevi se potessi bere in live vero? poi mi hai visto farlo e ho detto che lo posso fare ho tolto le stichette come dicevi prima sono andato cioè hai ripreso un contatto con la tua emotività e hai ricominciato a scrivere quindi serve assolutamente quelle emozioni da mettere nella storia poi la storia è sempre quella sì poi la cosa interessante è che ci puoi buttare dentro delle cose che all'interno della storia editoriale del personaggio non ci sono mai state e lì devi leggerlo per conoscerlo per cui una storia nuova sì soprattutto dei personaggi con una storia editoriale così lunga come Tex o Dylan Dog ma anche Martin Mister Diabolic eccetera eccetera cioè devi sapere di cosa più o meno si è parlato prima cioè e allora vai a trovarti uno spazio dove andare a raccontare quelle cose lì di base però soprattutto in Dylan Dog non è tanto il concetto di splatter a essere importante non è proprio la caratterizzazione che dai ai personaggi perché di base Dylan Dog ha una sua base sul romanticismo ma non il romanticismo dei baci perugina cioè il romanticismo quello proprio che poi ha dato il via a tutto il movimento gotico per cui la morte come mancanza cioè come perdita quindi l'amore quindi l'amore bravo cioè nel senso la mancanza sottolinea la mancanza di amore è sottolineata dalla morte quindi stai parlando di amore fondamentalmente quindi si parla d'amore sempre in un modo ma io penso in tutti gli horror poi alla fine anche amore per se stessi quando ti insegue il vile e ti vuole tagliare in due si anche amori bizzarri come quelli di Hellraiser però comunque sì perché abbiamo il famoso parallelismo tra amore e morte che c'è sempre ma soprattutto la base narrativa del genere che è nato nel settecento grossomodo come genere narrativo l'horror adesso la data esatta non me la ricordo con il castello di Otranto se non vado a sbagliare doveva essere settecentoquaranta una cosa di questo tipo che poi dà tutto il via alle famose poesie lacustre quelle diciamo dell'Inghilterra del nord dove andavano a struggersi per l'amata perduta poi parti e c'ha questa bellissima derivazione sul gotico con le fanù con tutto quel tipo di narrazione lì dove finalmente abbiamo il concetto di fantasma il concetto di vampiro il concetto dei grandi archetipi che poi si sono sviluppati nei secoli successivi alla base di questo c'è guarda per dire cioè l'esorcista di Friedkin cioè se tu prendi l'esorcista lì hai l'amore di una madre che non riesce a capire che cazzo sta succedendo la figlia è quella la base mi fa venire in mente un argomento che ho trattato anche qua in live da quando lo dico spesso perché ho persone giovani o persone senza figli e dico sempre che i film che sto rivedendo perché mi capita di recensire edizioni li riscopro come persona diversa perché ora ho un figlio e per me vedere un film di un padre che si strugge per salvare il bambino come in Road è presente quello con Vigo Mortals oppure madonna mia ma ragazzi ma io adesso non voglio dire che una persona senza figli non sappia empatizzare però vi garantisco che è molto dura per un genitore vedere a meno che tu non sia veramente uno stronzo non te ne fotte niente il tuo figlio però vi giuro è pesantissimo e adesso che mi citi l'esorcista che c'è questa bambina che eliminiamo il concetto di possessione demonica questa bambina che ha delle crisi equivale a una malata di mente e un genitore che non ha idea di come comportarsi e vede il figlio soffrire ed è impotente forse la cosa peggiore che si possa fare a un genitore è fargli guardare il figlio che sta male quindi è veramente una cosa assurda e il nostro essere diversi cambia il film perché abbiamo una percezione diversa cioè io dell'esorcista ho visto solo da quando ero bambino ho visto solo ah che figata gli ha detto un sacco di parolacce queste cose che piacciono ai bambini no? ah che bello gli ha detto un sacco di parolacce gli ha detto ciuccia cazzi cose del genere poi in realtà tutta la parte psicologica è potentissima è molto potente infatti anche io vedendolo a distanza di anni io adesso sono in quella fascia d'età dove io mi rivedono i preti cioè tutto il peso che hanno sulle spalle entrambi sia un uomo che l'altro ah si i preti te cioè nel senso la coscienza di poter far qualcosa ma sai che ci puoi lasciare la pelle se c'è qualcosa e poi e poi essendo appunto una questione tra diavolo tra inferno e paradiso loro si sentono anche comunque in dovere di farlo è certo cioè si sentono che è roba loro perdonami un attimo che devo ringraziare intanto vai per ringraziare Carlito per aver regalato un abbonamento a Holosite vabbè è scritto al contrario perdonami non reggerò mai il tuo nick comunque benvenuto e poi a JobaTV che ci ha fatto un bel ride se mi fate uno shout out a JobaTV che ci ha fatto un bel ride con 18 rider grandissimo per quelli che sono appena arrivati questo è un canale di cinema horror io sono il Gons e qua con me di qua c'è Diego Caielli sceneggiatore di fumetti e di Dylan Dog stavamo parlando anche prima di Dylan Dog seguite la live se vi interessa insomma parlare di cinema e di storytelling di scrivere storie eccetera dicevamo ovviamente io mi sono perso stavamo parlando di Dylan di come si fa una storia nuova come si fa e tu abbiamo risposto alla fine cioè fondamentalmente si usa quelle che sono le trame che esistono e poi c'è l'amore 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 comunque secondo me per arrivare allo spettatore bisogna comunque puntare sulle emozioni sui sentimenti cioè non bisogna risparmiarsi in questo bisogna perché io vedo tanta gente che scrive e tutti pensano all'esplosione alla sparatoria tutte queste cose ma poi alla fine ragazzi ma guardiamoci quando siamo davanti al televisore o al cinema quando è che ci emozioniamo cioè quando sono scattano quei momenti tra padre e figlio madre e figlio fidanzati tutti questi momenti qua sono quelli che poi ci rimangono penso Armageddon Bruce Willis Liv Tyler esatto di tutta la baracca è la scena quella lì odi tutto il cinema americano comunque ti devasta cioè perché devi essere un insensibile se non ci caschi anche come Titanic tutte ste robe qua insomma anche Lost is not Penny's boat con la mano sul sullo block cioè quel momento in cui sta arrivando la nave però non è la nave di Penny e il tipo se lo scrive sulla mano prima di morire e lo vedi anche cioè sono cose che vanno a colpire proprio l'emotività tra l'altro con i fumetti cioè non puoi giocartela con le esplosioni perché non ci sono effetti speciali cioè tu fai l'esplosione ma non ha l'effetto che ha il cinema no cioè non ce l'ha cioè a meno che tu non sia veramente un mostro a disegnare ti prendi due pagine fai una roba che ci metti più tempo a fare quelle due tavole lì che tutto il resto e poi il lettore fa così girato lo guarda in un nanosecondo adesso ti faccio un'altra domanda difficilissima io sto andando un po' a casa su Dylan Dog ti voglio chiedere ma velocemente per una riflessione su questa cosa qua Dylan Dog e sono cambiati i tempi quando eravamo giovani noi Dylan Dog era una specie di collante per tutti gli horror nerd italiani cioè era diventato quasi quella cosa che li univa tutti al punto tale che c'è stato persino un Dylan Dog c'è stato il Dylan Dog Horror Fest io stesso che ero horrorofilo per me era comprare Dylan Dog sempre e comunque poi chiaramente ho smesso giustamente penso c'è nessuno perché dopo un po' uno si stufa del personaggio c'è anche chi non si stufa ognuno poi anzi c'è anche a chi piace questa continuità però mi chiedo perché non c'è non c'è più questa cosa di Dylan Dog come riferimento come come riferimento per un genere allora beh diciamo innanzitutto che Dylan Dog esce nell'86 che per la letteratura horror per il genere horror è un momento meraviglioso un momento meraviglioso fondamentalmente perché sembra che quasi tutta la cultura mainstream volga il suo sguardo verso l'horror pensiamo parte tutto dal video di thriller di Michael Jackson fondamentalmente cioè il periodo è quello quello ti fa capire che va di moda l'horror esatto cioè è uscito in un momento in cui l'horror prendeva una grandissima rivalsa verso tutti gli altri generi narrativi e per cui diciamo dalla metà degli anni 80 seconda metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90 in questo decennio grosso modo facciamo dall'86 al 96 97 l'horror ha tenuto moltissimo sia da un punto di vista letterario sia da un punto di vista cinematografico e Dylan Dogg è entrato all'interno di quel tipo di struttura e ha funzionato tanto poi che cosa è successo è successo che sono cambiati i paradigmi cioè la culla attenzione dell'universo collettivo dell'immaginario collettivo globale si sposta dall'horror dal fantasy e improvvisamente abbiamo un cambio di rotta dove l'immaginario collettivo mainstream si sposta dall'horror e si colloca verso situazioni molto più fantasy per una serie di motivi molto complicati da spiegare in poche parole ma che riguardano soprattutto quello che è l'evasione da una realtà orribile ovvero l'evasione dalla realtà dei primi anni 2000 che sappiamo tutti che cazzo è successo nei primi anni del 2000 non dobbiamo proprio star qua raccontarcelo e il il crollo economico del 2008 che ha portato l'immaginario collettivo a dire ah si stava molto meglio prima e quale genere narrativo celebra i fasti di un passato che non può più tornare in fantasy cioè sia live fantasy alla tolkien sia low fantasy alla martin comunque entrambi hanno questa diciamo tendenza nostalgica verso delle ere precedenti agli eventi che mai torneranno più l'horror non ha più quel tipo di impatto fondamentalmente perché si viveva già in una situazione horrorifica per moltissimo tempo noi l'occidente non sapeva nemmeno chi potevano essere i loro nemici e questa cosa riverbera all'interno dell'immaginario collettivo l'horror ha fatto quella parentesi è stata una parentesi eccezionale ma loro rimane come rimane la musica metal per dire è chiaro che la musica metal degli anni 90 adesso è un po' un momento buono per l'horror è tornato un momento buono ora cioè non so se durerà dieci anni come è durato in quella stagione lì però l'horror è tornato ed è tornato fondamentalmente perché perché c'è una fuga dalla disneyizzazione dell'immaginario mi spiego meglio sì nel senso disney ormai ha la proprietà di talmente tante property intellettuali che partono da predator e arrivano fino a cosa intendi scusa perdonami per property intellettuali intendo che disney possiede i franchise le proprie intellettuali possiede star wars la marvel nel tempo si è comprato tutto tutto quel tipo di cose lì in alcuni casi riesce a fare dei prodotti che non siano diciamo disinnescanti completamente cioè che non siano delle cose che ti lasciano bello tranquillo eccetera eccetera però l'impianto di base è comunque quello allora c'è una ricerca che è costante verso delle tematiche narrative che invece inneschino la tensione e che inneschino un modo diverso di vedere una narrazione e in questo momento riesce a farlo molto bene l'horror con dei casi interessanti secondo me poi per alleggerire un attimo sporaci qualche horror che ti è piaciuto così anche per di questo periodo chiaramente mi so ma ne abbiamo parlato prima chiaramente quello è un bel film allora vediamo che cos'è che mi è piaciuto mi è ricevuto molto The Orphanage l'unico che non ho visto ma non è però non è recente The Orphanage è di quando sarà io sono no sai cos'è che per noi è recente ha tipo un range di dieci anni adesso ti dico recente per un giovane significa che deve avere un anno il film o due ah cazzo nel 2007 c'è proprio bellissimo nightmare scusatemi scusatemi non volevo essere così è una boomerata questa è una boomerata non lo so sono boomer di brutto va bene allora vale il signor diavolo di pupiavati ah ok allora a me è piaciuto ok ed è secondo me un esempio lampante di come lo racconti cioè di come la storia non è ma a parte che la storia è anche carina non è così inflazionata almeno in quello che vedo di italiano perché non c'è tanto horror adesso però appunto lui è riuscito a trasmettere proprio quella roba lì della casa dalle finestre che ridono uguale uguale proprio mi è piaciuta tanto la scena del bambino che va vuol vedere porta il cos'è che gli porta un'anatra qualcosa gli porta qualcosa da mangiare perché vuol vedere le tette alla ragazza più grande è una scena che ho adorato perché è una scena che io io non ho vissuto così che non ho vissuto così ma che comunque mi rivanga dei momenti della mia scoperta sessuale quando ero un bambino cioè è meravigliosa quella cosa lì ma poi anche altre cose che si vede sono proprio la sua infanzia è molto curioso che lui sia ormai molto in età e faccia un film invece che parla di lui bambino no? è vero è vero sì è vero io l'ho adorato non mi è sembrato neanche brutto esteticamente come film mi è sembrato abbastanza mi sto segnando quelli 2020 2021 2022 va bene così sì 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 perché sennò qua ci tirano le pietre ci tirano le pietre allora mi è piaciuto parecchio perché sono un tamarro Army of Dead di Zack Snyder quello di Las Vegas con gli zombie no no quello non te lo approvo proprio è bellissimo è tamarrissimo allora ti piacciono le tamarrate ma in realtà sì ho due film coreani The Call ma è vecchio ma no è del 2020 The Call quello Corea nel 2020 The Call horror coreano su Netflix ce n'è un altro più vecchio ah ok ce n'è uno vecchio vecchio di almeno 15 anni non lo so horror 2020 guarda facendo 2020 22 perché tu ti fidi del web ormai non c'è da fidarsi più di niente no questo qua dice The Call 2020 scheda completa del film di Chung Young Lee con Young Seo eccetera eccetera molto carino con un buon lavoro su quello che è i paradossi temporali c'è una una cosa molto divertente ovvero che in questa casa suona il telefono ed è qualcuno che ti chiama dal passato c'è anche un film con Dennis Quaid così no sulle frequenze quello mi sembra che si sentono tramite il CB come si chiama il CB il CB si queste cose che i giovani d'oggi non sanno neanche cosa siano cazzarola poi ce n'è sempre un altro coreano che mi è piaciuto molto affascinante la storia del potersi connettere tramite una cioè molto affascinante perché anche se è impossibile ci risulta plausibile cioè come la metafonia cioè cosa intendi scusa la metafonia la metafonia sono i vari ghost hunters che vanno a fare le registrazioni audio che poi sentono i messaggi dall'aldilà ma ce li mettono loro in post-produzione nel film si presuppone che la tecnologia sia qualcosa dimmi se se puoi tornare la tecnologia è qualcosa di misterioso e più esattamente come il tempo e lo spazio e quindi queste due cose misteriose fanno e a un certo punto si crea una connessione cioè quella è la plausibilità della telefonata dal passato potrebbe io quando li vedo penso sempre ma potrebbe anche accadere chi lo sa certo ma a me piacerebbe tanto aspetta e poi l'ultimo giusto per chiudere sempre fin coreano dovrebbe essere We Are Alive che è sugli zombie Alive Alive diversi esempi tutti molto interessanti e sono la dimostrazione del fatto che tu puoi vedere ne avrò visti quattro uguali ok puoi vedere la stessa storia però raccontata in modi diversi e divertirti perché quello lì poi in realtà è molto molto young come film sì ma poi ci sono queste due tre situazioni che non ti aspetti che mi hanno colpito parecchio come un esempio e quanto possiamo spoilerare cioè tipo vado sapatevi le orecchie tipo tutto il discorso del tentato suicidio di lui ok ok mi ha colpito molto quella cosa lì cioè moltissimo o il vicino di casa dell'appartamento del piano di sopra sì 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 no no ma è carino comunque non è allora non mi ha colpito nel senso che è anche molto plasticoso come film gli zombie non sono molto cioè sono un po' così hanno questa corsa corsa hanno la corsa orientale corsa orientale c'è questa corsa tutta esasperata no cioè amplificata come fanno i clown una volta no e quindi risultano un po' strani però effettivamente ci sono spunti di riflessione sia lì che negli altri ma allora fammi del male scusami quel treno per Busan quando è uscito è un bel po' no sono così vecchio lo so guarda io chiedo la chat adesso qualcuno ce lo cerchi per favore no perché io se tocco qualcosa qua mi salta tutta la live non voglio fare niente poi mi distraggo con troppa facilità comunque Trento Busan che è consacrato un po' da tutti come un film buono un film fa piangere un 2016 no neanche così vecchio dai beh però dai sono sei sei anni sì neanche così vecchio comunque quello lì sì scusatemi un attimo che c'è il cane che li venga con gli scoiattoli hai finito cioè scusatemi cioè hai preso gli scoiattoli no li vede dal balcone sull'albero davanti e questi scoiattoli sono dei maletti vengono apposta vengono apposta cioè per farla arrabbiare ma non saranno mica i chipmans magari non lo so cioè se volete vedere un cane con gli scoiattoli venite qua perché fa ridere chip chop dico sì comunque andiamo avanti perché ne ho di cosa chiederti io ti spremo oggi dovrai uscire dimagrito da questa sei anche dimagrito no? non credo pensavo il vino lo portavi in spalla per difetti è la barba che mi dimagrita ok allora la farò crescere ancora anche di più passiamo ad un argomento scottante la sirenetta nera sì allora perché 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 crea così tanto disagio? ma sai che me lo sto poi voglio dire io ho letto un articolo interessante che parlava di due categorie di persone il classico razzista vabbè infastidito da diciamo dal perdere caselle nel nel tavolo no? inizia a perdere i territori e poi e poi il nerd purista conservatore cristallizzatore dei cult però io io dico qua l'altro giorno Giorgio diceva abbiamo rappresentato Gesù Cristo biondo con gli occhi azzurri per anni per secoli e e poi stiamo a farci menati per la sirenetta nera io vorrei ricordare a tutti quanti che John Wayne ha interpretato Gengis Khan e dico solo questo e ma a quanto pare il caucasico che interpreta altre etnie non disturba io sono più per il che mi sa che c'è un fondo di razzismo io sono fondamentalmente sta d'accordo con te allora Sonia che è la mia ragazza mi ha girato negli ultimi ieri un video reaction di bambine di colore che vedono Ariel di colore adesso se riesco te lo giro dove praticamente queste bimbe gli vengono gli occhioni a cuore io ho pianto vedendo quel video perché le bimbe dicono ma è nera come noi mamma cioè è una cosa che ti dà un impatto e ti fa capire quanto l'inclusività e quanto il concetto di essere inclusivi realmente è chiaro che se tu sei bianco maschio etero non te ne frega un cazzo perché cioè vivi la tua vita sereno ma se sei nero o di altre etnie cioè questa cosa è importante e poi chiusa parentesi una sirenetta per me cioè di cosa stiamo parlando ma come puoi dire che ti dà fastidio che una sirenetta sia nera cioè voglio dire è un locale di un uomo esatto non è un personaggio reale quindi come puoi attaccarti alla scienza o cose del genere l'inclusività è fondamentale per estremamente in questo momento in questo momento storico mondiale e soprattutto italiano bisognerebbe essere orgoglioso anche di essere comunque vivere questo momento di cambiamento cavolo sì cioè io sono contento di essere nato in questa epoca che ha tutti i suoi difetti ho sempre adorato gli anni 70 più per il sesso libero busto queste cose però adesso che sono qua e dico però cazzo ne ho viste di cose migliorare certo le guerre tutti dicono che fa schermo perché prima com'era e sono molto contento di questo cambiamento ti faccio una domanda su questo cioè alla fine nelle storie e c'è una forte preponderanza di autorappresentazione proprio del bianco sempre e comunque io mi immagino essere nero accendi la tv vai al cinema e c'è non ti senti proprio escluso totalmente escluso escluso sì ma questo vabbè fondamentalmente perché abbiamo appunto cioè una grandissima maggioranza di autori bianchi maschi etero cioè che che si autorappresentano giustamente ma perché voglio dire quando racconti una storia fondamentalmente come dicevo Orazio cambi nomi ma parli di te cioè stai parlando della tua esperienza della tua vita cioè più questa struttura si riesce ad allargare cioè inserendo anche altri modi di concepire il mondo e di vedere il mondo o di essere a questo mondo la storia non fa altro che guadagnarne punti e a favore cioè nel senso funzionano anche molto meglio io mi ricordo un periodo in cui la DC Comics mi sembra che fosse verso la fine degli anni 80 aveva lanciato un'etichetta che si chiamava Milestone dove praticamente tutti gli autori erano di colore raccontavano storie di supereroi di colore mi sembra Milestone ma sì Pietra Migliaro era così no cioè non è che va ghettizzato ulteriormente la cosa va integrato cioè bisogna portare dentro non portare fuori e separare e stavo pensando cioè nel senso a me piacciono per esempio uno dei miei attori preferiti è Denzel Washington ti faccio un esempio ma me che Denzel Washington c'è quel film bellissimo come si chiama Equalizer Equalizer sono una bomba sì sì però per me Denzel Washington non è nero non è bianco non è azzurro è un fottuto figo Denzel Washington basta cioè io non devo giudicarti prima in base alla tua orientamento sessuale o con allora c'è una domanda che secondo me rispondere chiarisce almeno il mio pensiero Vale chiede Vale Vespa chiede invece cosa pensate dell'inserimento di personaggi di colori in film storici ok allora io ti dico la mia per me il film storico e secondo me tu sarai d'accordo perché è il frutto di tutto quello che ci siamo detti il film storico è comunque una storia raccontata da qualcuno quindi un'interpretazione quindi il fatto che il personaggio storico sia nero o bianco cioè il film non ha la pretesa di insegnarti la storia il film ha la pretesa di raccontarti una storia che ti emozioni quindi esattamente come nel teatro un attore può fare delle cose cioè Orson Welles ha fatto Otello cioè Orson Welles ha fatto Otello pitturato di nero cioè esatto nel senso il film non ha il compito appunto di insegnarti la storia ha il compito di farti emozionare quindi se tu fai Giulio Cesare nero è una storia tu lo faresti un'operazione del genere io assolutamente con Denzel Washington che fa Denzel Washington sarebbe un Giulio Cesare pazzesco poi ci spaccano la faccia tutti quanti però si sta facendo confusione soprattutto in alcuni momenti di critica tra documentario con una importanza didattica con una valenza diciamo accademica e opera di finzione e di intrattenimento cioè a me diverte che non nel caso di chi ci ha fatto questa domanda ma mi diverte quelli che si diventano matti perché magari in un film storico si mette un nero poi vanno a vedere Troi e abbiamo personaggiati un metro e ottantacinque biondi guardare adesso come sono i greci e immaginare i tempi dell'antica Grecia come potevano essere cioè per cui se non c'è se non esiste la necessità di un'aderenza specifica a quello che è la storia perché non hai una pretesa didattica secondo me puoi fare un po' tutto quello che ti pare devi fare tutto quello devi fare tutto quello che ti pare no infatti ma ma secondo me è perché si sposta il tema della politica in un altro tema che invece è quello dell'arte siamo circondati da politica al punto che tutte le scelte sono politiche cantare o non cantare una canzone in Spagna è una scelta politica indipendentemente che tu canti o non canti quella canzone lì ma infatti ma infatti probabilmente non aveva i mezzi per capirlo al momento la Pausini non ha capito che facendo quella scelta cioè qualsiasi cosa noi facciamo è una scelta politica anche noi probabilmente parlando qua abbiamo espresso e fatto capire quali sono le nostre convinzioni politiche eccetera che era contro ma solo per sapere appunto approfondire l'argomento intanto ringrazio Alca che ha rinnovato l'abbonamento grazie mille mi raccomando supportate rendetemi ricco così avrò così chiudo tutto vado in vacanza andiamo comunque guarda mi sto divertendo un casino perché sono sono tante cose su cui alcune chiaramente che non so però altre su cui avevo delle convinzioni mi fa piacere un po' anzi avere ogni tanto avere un conforto perché spesso mi trovo a fare delle battaglie contro diciamo un pensiero comune semplificato che sembra sempre essere molto più forte perché viene espresso sempre con tre parole e tu invece che hai delle verità che sono invece ricche di dettagli fai molta più fatica devi sperare che la gente stia lì ad ascoltarti no è la teoria della comunicazione della montagna di merda che è stata sistemati diciamo che è stata formulata da Uriel Fanelli poteva essere il 2008 2009 dove dice uno per dire una cazzata ci mette tre parole veramente e tu per debancare o comunque per andare a spiegare che hai detto una cazzata devi prendere una pala e cominciare a scavare una montagna gigante di merda perché poi devi metterci le fonti devi farci riferimenti devi spiegargli il perché e dici che nella maggior parte dei casi non serve perché comunque quello che ti ha scritto quelle tre parole non cambierà mai la sua idea questo è un po' mi ha abbattuto questa cosa però questa cosa non accade qua ma accade soprattutto su quell'inferno che si chiama ma accade purtroppo però come puoi immaginare accade anche qua cioè arriva uno spara una cazzata e poi se ne va e chi invece segue il canale sa che se dice una cosa poi gli tocca argomentare perché sennò non starebbe qua quindi diciamo però che passano comunque spettatori occasionali se gli piace diventano spettatori se non gli piace sparano la cazzata io li massacro e giusto ieri parlavo con un con un spettatore mio però è un abbonato lo conosco che un po' frustrato arrabbiato ha detto che che la colpa della crisi del cinema è di Netflix e io ho iniziato un pippone perché appunto come dicevi tu bisogna scavarne di roba e gli ho spiegato innanzitutto che le piattaforme sono circa 20 cioè sono 15-20 quindi non è colpa perché Netflix deve pagare per tutti cioè c'è un cambiamento sociale tecnologico e Netflix è il figlio di puttana gli altri sono lì noi fatturiamo senza fare la figura dei cattivi cioè questo è solo per fare un esempio poi ci sono tanti motivi per cui le sale cinematografiche si sono svuotate prima di Netflix ci sono stati anni di alta definizione tutti questi siti di streaming illegale cioè quelli non se li è mai presa nessuno con quei siti nessuno sì sì no è vero io comunque ti dico io ho una filosofia per cui promuovo sempre lo streaming illegale l'acquisto dei film eccetera sono assolutamente contrario allo streaming pirata e poi nei contesti giusti spiego perché per come però appunto dire che Netflix è il colpevole è un modo per scagionarsi dire ok io non c'entro niente però io dico una cosa il culo di chi è? di Netflix o il tuo? cioè sei tu che decidi per il tuo culo di alzarlo o meno o è Netflix che decide? no è quello cioè forse magari anche se faccio un esempio sciocco se fosse scelto di non isolare il cinema in cattedrali amene fuori dalle circonvallazioni ma di tenerle all'interno delle città in strutture ci puoi andare anche a piedi magari al cinema ci andrebbe qualcuno di più solo che serviva la mega struttura perché ti devo vendere i popcorn dare le patatine far giocare il bambino la storia giochi farti parcheggiare il SUV eccetera sono scelte e secondo me qua è il capitalismo che dovrebbe farsi delle domande un nucleo familiare che va al cinema sono 50 euro 50 euro cioè botta così proprio quindi capite grazie per il follow prince skywalker deduco che ti piaccia star trek qua risata ti è piaciuta questa questa era bella no infatti tu hai aggiunto una cosa poi si potrebbe dire che in alcuni cinema il servizio è schifoso che i film stanno due giorni cioè ci sono tanti motivi per cui poi uno non va quindi diciamo che appunto è un po' il problema di comunicare sul web è che tu ti devi spendere veramente in tantissime parole voglio mi ero tenuto degli appuntini per fare una roba un po' più una roba l'abbiamo già trattata che è quella che riguarda appunto la quantità di trame volevo proprio far capire anche detto da un esperto non detto solo da me che non so nessuno però anche altri argomenti come per esempio i fantomatici buchi di sceneggiatura ma soprattutto partirei prima di partire da che cosa sono partirei dal perché le persone io l'altro giorno in live ho detto voglio chiedere a Diego questa cosa di buchi di sceneggiatura perché sono stufo che le persone si prendano cioè secondo me per poter dire questo film questo libro questa cosa ha un buco di sceneggiatura uno dovrebbe essere uno sceneggiatore secondo me in generale o quantomeno avere un po' di cultura in questo senso no? per risponderti però ho bisogno un attimo di fare il punto allora cosa si intende qua per buchi di sceneggiatura appunto è quello che allora ti dico io non non ho la pretesa di essere appunto uno sceneggiatore e capire queste cose dal mio punto di vista io non uso mai questo termine perché penso non so scrivere una storia quindi cioè è come parlare di vaccini senza essere biologo ho bisogno di capire fammi un esempio di quello che viene definito da altri come buco di sceneggiatura allora secondo me erroneamente viene definito buco di sceneggiatura quando non viene raccontato qualcosa che a loro interessa ok ti faccio l'esempio di Blackphone dove il personaggio interpretato da Etiano che è un killer e il suo personaggio non è approfondito perché il film si concentra tutto sui bambini che sono protagonisti sinceramente lo spunto era lo spunto era perché secondo te le persone usano questo termine a caso e poi era anche chiederti di spiegare cos'è dal mio punto di vista un buco di sceneggiatura poi magari dico una cazzata è un pezzo di storia che manca nella trama principale per far sì che si capisca ma sono dell'idea che comunque un bravo scrittore volendo può anche rompere delle regole cioè se va oltre diciamo se entra in una sfera diciamo artistica cioè però tendenzialmente un buco di sceneggiatura potrebbe essere da quello che deduco un pezzo che manca al plot alla trama principale diciamo allora partiamo dal presupposto che ogni tipo di storia ma di qualunque tipo si appoggia su quelle che vengono definite come ellissi narrative cioè io non ti posso raccontare ogni cosa alcune cose te le racconto altre non te le racconto se noi questa cosa la coniughiamo esclusivamente al cinema visto che siamo qua parliamo di cinema cioè le ellissi narrative sono per esempio quelle cose che ti fanno creare il montaggio cioè il montaggio tra una sequenza e l'altra lavora per ellissi narrative cioè nel senso tu sai che tra la sequenza 1 e la sequenza 2 è passato del tempo è passato un giorno all'altro ma non è che ti ho fatto vedere il sole che tramonta il sole che sorge eccetera eccetera per cui questi movimenti che vanno a tagliare delle parti sono quei movimenti che Woody Allen diceva la mia vita è molto noiosa vorrei che avesse un montaggio migliore cioè sono tutte le parti che ti rompono le palle e fondamentalmente le seghi e parti dal presupposto che lo spettatore capisca che cosa è successo nel frattempo e chiuda lui i buchi ok l'ellissi narrativa per esempio aumenta nelle narrazioni adulte diventa veramente veloce per cui hai dei passaggi delle cose che ti vengono spiegate e diminuisce nelle narrazioni per bambini per cui ti faccio vedere più cose ti spiego meglio alcuni passaggi perché ovvio che un bambino ha delle decodifiche di quello che vede diverse rispetto ad un adulto il buco di sceneggiatura non è non ti racconto una parte se questa parte non è importante al fine del prop principale il buco di sceneggiatura se c'è è sempre e soltanto sul plot principale cioè cosa vuol dire oggi sono andato vicino cioè è solo quello che ho detto io ok cioè significa che soprattutto io arrivo alla conclusione del plot principale arrivo alla chiusura della storia e la chiudo facendo vedere dando degli elementi che io prima non ti ho dato cioè come se improvvisamente comparisse un personaggio che tu non sai chi è che ha messo al vampiro quello è un buco di sceneggiatura scusa ripeti perché ero come se sul finale abbiamo siamo tutti e tre da dracula stiamo per piantare il paletto si si proprio apriva blade e lo uccide eh no tu non hai spiegato chi è blade e perché lo uccide diciamo ma volendo potresti anche sorvolare sul perché potresti almeno raccontare qualcosa si si il buco di sceneggiatura è quando il plot principale ha delle mancanze che io non ho raccontato nella maniera corretta al mio lettore o spettatore è chiaro che io non ti posso dire tutto perché se ti dicessi tutto mi brucerei i colpi di scena però non posso nemmeno fare accadere le cose senza dare una spiegazione del loro accadimento ti leggo un commento di Alca che è un mio abbonato quindi trattamelo bene no sto scherzando trattamelo tutti perché voglio capire come lo interpreti magari lui dice per me un buco di sceneggiatura è qualcosa che non torna su questo forse non sono d'accordo o qualcosa che contraddice un assunto dato all'inizio della narrazione più questo che quello che dice prima vero? quello che non torna è un errore cioè nel senso è un errore di sceneggiatura ce ne sono ma il concetto di buco è quello proprio del secondo esempio che fa cioè di sono arrivato a un certo punto ma non ho capito perché ci sono arrivato perché non ho mai dato gli elementi per capirlo ok però questo mi fa dire una cosa se una persona ha e non è così assurdo che sia così delle difficoltà cognitive però scusa io ho imparato una cosa negli ultimi anni della mia vita perché veramente sono cresciuto con l'illusione che le persone siano tutte dotate di intelligenza nello stesso modo mi sono accorto adesso cioè ho preso consapevolezza del fatto che non è così cioè la gente non capisce perché ma non è per offendere le persone ci sono persone che hanno capacità cognitive molto inferiori alle mie e a quelle di tante persone e questo può dipendere anche dal fatto proprio che non guardano film di qualità non leggono non studiano non gliene frega un cazzo di niente guardano Maria De Filippi tutto il giorno e poi guardano Midsommar e se ne escono con è un film del cazzo perché non l'ho capito cioè è semplice Midsommar adesso non mi metto a fare la disamina però in realtà è molto evidente di cosa parla Midsommar o anche appunto l'esorcista era evidente l'abbiamo parlato prima in due secondi abbiamo detto che parla di quello quindi diventa poi questo collegare i pezzi che tu da bravo scrittore fai mettere i pezzettini di pane per chi li deve raccogliere trovare la strada della storia poi però non è semplice per tutti quindi cosa succede che lo scrittore per essere percepito come un bravo scrittore deve scrivere come se scrivesse ad i bambini per tutti quanto posso essere sincero tantissimo tanto non mi guarda nessuno ok se lavora per la televisione italiana generalista sì sì assolutamente sì cioè se lavora per la televisione in chiaro quella generalista deve scrivere come se stesse scrivendo a una classe di bambini con dei problemini ok in tutti gli altri contesti visto che comunque abbiamo una targetizzazione anche no i problemi ci sono quando vai over target quando il tamarro ti è abituato a vedere soltanto il calcio guardami di sommar e allora lì c'è un problema e lo guarda per sbaglio di solito non è che sceglie di guardarlo cioè allora lì c'è un grosso problema e di nuovo è un problema legato ai tempi contemporanei in cui viviamo dove tutto si può diciamo passare da un contesto all'altro ciò non vuol dire che bisogna fare del classismo attenzione non c'è da fare del classismo narrativo però bisogna anche capire che determinati tipi di pubblici pubblico cresciuti a pane Maria De Filippi non sono in grado di comprendere determinati tipi di narrazioni banalmente allora puoi scegliere se fare una narrazione che sai che è legata a quel tipo di pubblico dove fai un midsummer però non riesci a spiegarglielo perché tutto sta nello spiegargli le cose poi però quando diventi troppo di da scalico l'utente più esperto si stufa si spiace l'utente più esperto ti dice ma che palle però ti faccio un esempio spero che tu abbia visto il film Az lo hai visto? Az noi noi di Jordan Peele quello dei doppelganger beh no non lo ho visto però conosco molto bene l'archetipo della storia del concerto ok allora lo posso spiegare praticamente io ho questa teoria lui alla fine fa un un sunto didascalicissimo spiega che cosa è accaduto ma proprio in un modo è un po' la James Wan quando ti svela che c'è la mano dietro al burattino ficcata uguale ma ti dice guarda la società è fatta così ci sono i cattivi buoni lo schiavismo una società che vive a spese dell'altra te lo spiega proprio e molti hanno detto ah bello il film però cazzo il finale è molto didascalico e io ho pensato subito sta cosa l'ho pensato anch'io cazzo ho detto minchia che spiegone io l'avevo già capito non c'era bisogno però ho pensato anche questa cosa che lui ha usato il cinema in modo estremamente politico e ha detto io sto parlando a un ammasso di deficienti non l'ha detto chiaramente perché ha rispetto di gente che si ingozza e muore di cancro perché pesa 160 chili e non lo capisce che si sta ammazzando quindi io gli devo spiegare questo film perché questo è un film politico e quindi ha fatto una roba iperdidascalica che ha un po' fatto storcere il naso ai cinefidi però poi alla fine la gente forse ha capito che il concetto era noi viviamo sulle spalle dei nostri doppi cioè delle persone che sono uguali a noi ma chissà perché hanno meno diritti di noi sì 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 no chiaro certo sì e poi soprattutto cioè il concetto è che poi bisogna vedere anche con che tipo di produzione uno si interfaccia cioè che tipo di produzione uno si interfaccia qual è l'editore qual è la produzione certo se gli intenti sono artistici o di guadagno e basta esatto cioè dipende molto ti posso chiedere se mi posso assentare certo certo sì sì assolutamente così leggo anche un po' la chat ok così do anche un po' retta vai tranquillo torna quando vuoi ok basta che non vai a comprare le sigarette e poi non torni mai più no va bene no torno torno grazie grande Diego vai vai intanto saluto Cordolli aspetta che metto anche questo schermato adesso Diego torna ciao Cordolli benvenuta non so perché non mi vadano gli shout out non riesco adesso però a occuparmene perché quando ho l'ospite in live sono un po' incasinato ragazzi se vi ho scammato vi chiedo scusa adesso Diego torna ricominciamo ci sono un bel po' di cose tra l'altro Cordolli ha scritto una cosa che mi interessa su l'inch adesso voglio parlarne con Diego per chi si è collegato dopo Diego Cayelle è uno sceneggiatore di Dylan Dog e anche di tantissimi altri fumetti tra l'altro il suo numero disegnato da Corrodoroi esce proprio a fine settembre quindi andatelo a comprare e vabbè oltre a questo io lo conosco da tantissimi anni perché è stato il mio insegnante di sceneggiatura alla scuola del fumetto quando ero giovane insomma stiamo parlando un po' di cinema e di storie storytelling eccetera eccetera direi che io mi sto divertendo un casino ragazzi mi spiace che sto seguendo un po' con la chat ma vi garantisco che per me è molto difficile rimanere concentrato sulla discussione e distrarmi continuamente con la chat sarebbe un po' un problema quindi vi chiedo veramente scusa se non vi sto cagando ragazzi sì sono scammone potente oggi perdonatemi perdonatemi domenica sono qua a parlare di Lady Vendetta tornate e giuro che vi leggo tutto vi leggo anche i promessi sposi allora ragazzi donate donate abbonatevi supportate mi raccomando perché non ho il tempo adesso di rompervi il cazzo devo diventare un po' più bravo anche a gestire la chat mentre ho l'ospite perché comunque mi piace l'idea usate i messaggi in evidenza se avete delle domande serie importanti usate il messaggio in evidenza che lo noto meglio per le chiacchiere così non lo usate allora torno un attimo alla schermata arrivo ok eccoci no ne ho approfittato per scusarmi un attimo perché mentre ho l'ospite è un po' però io perdo facilmente la concentrazione quindi se leggo la chat poi faccio sembro tonto già sembro tonto così poi comunque ho una cosa da leggerti che ho letto in chat che mi interessa ok Cordolli che tra l'altro ha un canale anche lei si si chiama loop genetico ha chiesto dove cavolo è finita il commento Cordolli dove si è finita ah nemmeno i film si parlava del capire il film no nemmeno i film di Lynch si capiscono però sono belli mi è piaciuta questa frase perché è vero che i film di Lynch non si capiscono cosa ne pensi della sua narrazione del suo modo faccio una premessa per chi non lo sapesse Lynch ha fatto una scuola d'arte quindi lui era un pittore un giorno ha scoperto che esisteva un modo per fare un'arte in un'altra maniera e ha fatto un film che si chiama Eraser ed se lo guardate è estremamente è veramente fumettoso artistico quindi da lì capite che il suo modo di rapportarsi alla comunicazione è criptico perché è molto legato proprio all'arte visiva secondo me Lynch fa parte proprio di quel discorso che abbiamo fatto sulle voci estremamente riconoscibili cioè sul come ti racconta una storia da un punto di vista anche estetico e soprattutto da un punto di vista proprio di immaginario allora ci sono secondo me veramente i grandi narratori li riconosci per il loro stile che è unico possiamo dire Lynch Barton e via discorrendo ma nello specifico Lynch nasce da un territorio che è un territorio estremamente artistico dove lavora proprio su delle metafore gigantesche molte cose sono sue estremamente personali e su un lavoro di introspezione psicologica cioè all'interno di tutti i lavori di Lynch si possono proprio vedere proprio gli archetipi junghiani come lavorano cioè proprio l'interfaccia tra i vari personaggi e da un punto di vista visivo è un matto cioè è un matto col botto secondo me lui e Jodorowsky sono quelli che hanno l'immaginario più forte da un punto di vista visivo cioè ecco Lynch non è sicuramente un regista per tutti tranne per alcuni casi come forse Cuore selvaggio è il suo film più diciamolo mainstream gli altri perché segue una narrazione più classica esatto cioè esatto sugli altri non gliene è mai fregato nulla cioè c'è da chiedersi come abbia fatto emergere e erano altri tempi c'erano altri periodi cioè erano più radical chic quei tempi dove l'artista poteva anche avere più libertà forse erano tempi più 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 pioneristici cioè nel senso Lynch allora la cosa interessante è che magari magari anzi no toglie magari sicuramente esistono degli artisti contemporanei con un lavoro e con un immaginario personale all'altezza dell'immaginario di Lynch però non trovano le produzioni adatte con cui interfacciarsi cioè prima era più aperto ma questa cosa si può vedere anche nella musica mi viene quasi da dire che quello che oggi è l'indipendente una volta era cioè l'industria era più indipendente in qualche maniera sì assolutamente mi immagino i registi come Wes Craven all'inizio erano sì erano prodotti da persone che però erano comunque dei appunto pionieri erano insomma azzardavano ci credevano volevano non lo so le collineano gli occhi cioè nel senso abbiamo quel tipo di struttura quanto sarà costato veramente 3000 lire un'oliva e quattro bottoni per dire cioè come 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 concetto anche non aprite quella porta è abbastanza economico come film sono rimaste lì capito rimarranno lì per sempre questo perché non è che prima si rischiasse di più non è non è questo il concetto il concetto secondo me è che prima non si pensava al passaggio televisivo io ho come questa impressione qua cioè io penso che il il pensiero del il film è una roba che poi andrà in televisione con dei tagli quello che vuoi poi in dvd poi in blu ray eccetera però il concetto è che il passaggio televisivo impone la pubblicità sì e allora a questo punto io per non disturbare il signor Rovagnati che deve mettere la pubblicità del prosciutto dentro non aprite quella porta non aprite quella porta non lo faccio più aspetta un attimo ah ok no è tornata eh no si è raffrizzato un attimo ma mi viene da dire che anche al di là del proprio la tv dei nostri tempi oggi potrebbe essere comunque il perbenismo che c'è sulle piattaforme per esempio oggi addirittura un film è più libero è più libero di essere se stesso quando vai in non video perché va per i collezionisti sì il collezionista per esempio Midsommar io l'ho rivisto quando mi hanno mandato l'edizione ha 25 minuti 24 minuti in più di film ed è già bello lungo tra l'altro l'ho visto intero ed è bello comunque quindi non non pesa assolutamente quindi quella pesantezza dei 24 minuti in più torna grazie all'on video perché il cinema ha i suoi limiti lo streaming di Netflix Prime eccetera c'ha le famiglie ma poi c'è anche tipo un altro scusami che mi sono incasinato ok c'è anche un altro discorso molto interessante che è legato proprio agli aspetti produttivi allora diciamo che da un punto di vista produttivo alla nostra fascia che è la fascia mediterranea le grosse compagnie di streaming richiedono un genere specifico cioè nel senso alla fascia mediterranea sono richieste commedie perché i quelli che sono comparsi perché non si sa mai da dove arrivano queste figure queste le persone che devono dire sì o no hanno deciso che in Italia eccetera eccetera siamo bravi a fare commedie se esce un qualcosa è perché uno di questi ha rischiato tantissimo e ha deciso di dire no vabbè prima di fare un horror e comunque non si è arricchito e comunque secondo me non ci ha fatto i soldi fa ok facciamo classico horror storie ok quello lì va bene basta facciamo altre 25 commedie però intanto esatto sì no quella è una situazione un po' malata e anche un po' arenata del cinema italiano no? io ti dico questa cosa la dico sempre 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 perché bisogna rompere i coglioni io in tutta la mia carriera ripeto io faccio questo lavoro dal 93 io non ho mai visto un problema artistico non ho mai visto un problema creativo in nessun posto nessuno sì tu stai dicendo perché c'è c'è anche questo questa falsa cosa che viene detta sui social cioè si dà la colpa alla creatività degli italiani col cazzo è bravo quando col cazzo noi siamo siamo ancora anche se adesso abbiamo un pochino il motore raffreddato perché non ce lo non ci fanno andare in pista noi siamo comunque centomila volte più creativi degli americani che non hanno una storia non hanno una cultura non hanno niente è sempre e soltanto un problema di produzione sempre e delle figure con cui ti interfacci certo è sempre un problema guarda collego una cosa a questo discorso così si aggancia perfettamente Diabolic perché ieri sera ho detto ma sai che c'è domani vedo Diego mi guardo il film tu sei stato sceneggiatore anche di Diabolic e mi sono vedute delle riflessioni interessanti vabbè collego il film perché appunto è un film indubbiamente coraggioso perché comunque appunto abbiamo appena detto in Italia solo commedie e solo la cricca poi alla fine perché si proteggono praticamente la pensione cioè cercano di portare avanti il loro regno e quindi in questo momento purtroppo abbiamo l'accento sbagliato per poter fare una commedia in Italia ok perché c'è anche il discorso della 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 commedia cioè della romanità del l'hai detto tu ok sì no lo dico lo dico io ma mi sembra abbastanza palese ok per fare televisione e cose deve essere tutto in romanesco fondamentalmente o con l'accento romano sì ma non ma poi sì appunto comunque andiamo avanti al di là di questo ok i Diabolic vabbè i manetti sono famosi per comunque adesso io non so quali possono essere i pregi e i difetti ma sicuramente loro hanno la loro visione di cinema e vanno avanti dritti e questo bisogna fargli l'applauso perché vanno e si impongono a volte probabilmente hanno preso delle cantonate cioè hanno dovuto leccarsi le ferite altre volte gli è andata bene questo Diabolic mi ha colpito perché ho letto cioè ho letto commenti sul web criticissimi e attribuisco il fallimento del film per un certo tipo di pubblico al pubblico non al al film che ha dei difetti comunque secondo me il difetto tecnico più grosso che ha è la recitazione che in questo caso è molto più bassa del solito da attori che sono capaci di dare molto meglio di così anche solo Mastra Andrea è molto più bravo in altri film qua sotto tono anche anche Alessandro Roja è molto meno bravo del solito quindi non dico che siano Robert De Niro di solito però al di là di questo è un film fatto abbastanza bene il fatto che non piace è perché questa operazione dimmi se sbaglio perché questo ha a che vedere proprio con la trama io non sono un grande conoscitore di diabolico però da bambino lo leggevo con grande curiosità mi sembra un'operazione di celebrazione di cristallizzazione di un di un personaggio che è stato portato come preso dal museo e sta dentro una bellissima tecca brilla perché è un personaggio comunque bello diabolico viene esposto e la gente lo guarda è quello l'operazione che vedo in diabolico e quindi se non ti è piaciuto fondamentalmente perché a te non piace diabolico e io sono pienamente d'accordo con te allora a parte il fatto che prima di arrivare a questo diabolico diabolico ci sono stati qualcosa come dieci anni di inferno di produzione cioè diabolico è stato annunciato più o meno come diciamo di lavorazione del film intorno al 2010 mi sembra posso sbagliare di un paio di anni facciamo 2012 facciamo una roba così e il contratto blindato che c'era su diabolico era il fatto che la casa elettrice dovesse approvare il soggetto e comunque la sceneggiatura del film e in al tempo stesso però siccome è un brand molto interessante si sono aggiunti parecchi produttori io ero presente fondamentalmente per cui io ho visto bocciare decine e decine e decine e decine di soggetti anche di registi affermati cioè di produzioni anche europee uno e per tutti Jean-Jacques Hanno cioè per dirtene uno tutte queste proposte venivano serialmente bocciate perché si slegavano anche di una virgola dal canone del fumetto mi viene in mente scusami Dylan Dogg quello americano lì è un altro discorso ancora non è che si distacca di poco proprio non c'entra niente ma proprio perché lì non c'era il controllo della casa editrice su quello che era il film realizzato non avevano voce però io vista dall'esterno questa cosa che mi dici la considero positiva nel senso che non si volesse che fosse diciamo inquinato il prodotto come è da un sacco di tempo da quant'è che esiste Diabolic dal 61 cioè Diabolic è ininterrottamente inedicola dal 61 e se noi prendiamo una decina di numeri degli anni 60 una decina di numeri degli anni 70 una decina di numeri degli anni 80 90 2000 le differenze sono minime minime quello che è forte è che è proprio la traccia editoriale la traccia narrativa che è rimasta identica per cui noi su Diabolic è come se fosse una gigantesca istituzione che per lettori di Diabolic questa istituzione è intoccabile cioè la stessa cosa accade con Zagor accade con Tex ma soprattutto su Diabolic noi su Diabolic c'è una fanbase che è molto ampia molto vasta che sta leggendo fondamentalmente lo stesso fumetto dal 1961 il film di Diabolic approvato dalla casa editrice è esattamente quello che dicevi tu prima è una celebrazione dei 60 anni di questo personaggio che non ha avuto un'evoluzione cioè l'ha avuta ma non l'ha avuta così forte come per esempio l'hanno avuto i personaggi della Marvel che hanno più o meno la stessa età però si sono evoluti ogni decade fondamentalmente c'è un commento di Alca che è uno spunto per parlare proprio dello stile registico narrativo eccetera dice parla di ritmo lentissimo nei dialoghi da sopopera e io la cosa che voglio dire perché dico che è il pubblico che fallisce perché secondo me io l'ho apprezzato perché per me era un'ottima trasposizione sia quello che anche alcuni spunti di regia un'ottima trasposizione di ciò che è il fumetto assolutamente sì quindi il punto qual è che a te non piace a te non piace diabolic non che a te te consideri giudichi negativamente questo film perché fondamentalmente il punto è che non hai gli strumenti per giudicarlo perché non ne hai capito la natura artistica e non sei il target e non sei il target no no ma senza cioè nel senso non è che nel senso è legittimo che non gli sia piaciuto per l'amor di dio però magari non ha mai non ha mai letto diabolico non è nel target non ha è quello il problema probabilmente non ha 60 anni e non lo leggeva dal parrucchiere da bambino no ma sì sì no ma non voleva essere non voleva essere un attacco diretto all'alca era era per dire che spesso lo spettatore cerca cerca nei posti sbagliati quello che vuole da un punto di vista filologico proprio da un punto di vista puramente filologico il film dei manetti di Diabolic è filologicamente aderentissimo a i fumetti di Diabolic che lo è molto di più rispetto a rispetto ad Avengers non parliamo di Spider-Man come hanno conosciuto il primo Spider-Man il primo Spider-Man con Tom Holland per dire un'assurdità che accade è goffo si inciampa e sbatte quando il primo superpotere di Spider-Man è la superagilità superagilità quindi stiamo parlando proprio del fare la qualunque su un personaggio che cioè non è poi io apprezzo anche i cambiamenti le cose però questa operazione è chiara evidente quindi quello che chiedo al pubblico è di osservare non giudicare nel momento in cui osservi dici ok non mi piace non mi è piaciuto non mi ha divertito però se tu ti sollevi da quel ruolo giudicante a quel punto dici però cazzo i manetti hanno fatto una roba esattamente come la volevano fare come come gli è stato chiesto e come la volevano fare nel senso che tra l'altro su Diabolic non è nemmeno stato fatto il lavoro di riscrittura che per esempio ha fatto Snyder con Superman per farti un altro esempio cioè il Superman cristologico di Snyder è chiaro che non c'era in Shuster quando l'hanno fatto per cui cioè Diabolic è come se fosse cristallizzato cristallizzato in un eterno anni 60 che sono gli eterni anni 60 dei fotoromanzi delle novele come dicevi tu cioè con quel ritmo da sceneggiato Rai di quel periodo lì e che in quel caso io l'ho apprezzato perché si vede che è fatto apposta che i lettori di Diabolic cazzo quello volevano no ma infatti ti dico per me è stata una cosa anche molto emotiva perché mi ha ricordato proprio quando mi leggevo il fumetto dal medico che che dici non te lo compreresti mai tu da bambino diabolico perché sai che è il fumetto degli adulti però quando lo trovi dalla nonna dallo zio lo prendi lo guardi lo leggi e ti chiedi ma perché questi leggono la storia di un tizio che ammazza con tanta facilità le persone perché poi ho apprezzato anche che abbiano preso proprio tutte le sue caratteristiche la spietatezza di diaboliche e poi c'è una cosa molto figa nel film che secondo me proprio a quel punto se non l'hai capito lo capisci lui scappa con la macchina non è spoiler è solo una scena è un twist diciamo schiaccia un pulsante nell'auto in una strada qualunque della città si alza una pedana meccanica che lo fa saltare con l'auto quindi una cosa assolutamente impossibile ma che nei fumetti c'è come si chiama questa cosa come la possiamo definire no c'è proprio l'enciclopedia interna alla casa editrice con praticamente quelli che sono gli escamotage per le fughe di diabolica no veramente giuro che figata aspetta un secondo aspetta un attimo sì sì comunque adesso voi qua state facendo una mega discussione bababia ragazzi mi son perso eh ma il letto diabolico mi ha apprezzato il film il ritmo di diario però ah non avevo capito che l'avessi apprezzato perché pensavo che comunque sottolineando che fosse diciamo lento da sopopera ti avesse smaronato particolarmente comunque mi fa piacere che no mi diceva mi diceva Alca che che ha parlato appunto dei dialoghi lenti da sopopera che non ha mai letto il fumetto che ha notato comunque questa lentezza dei dialoghi ma che comunque il figlio è piaciuto oh ok allora non ho trovato il volume perché deve essere da qualche altra parte però guarda che cosa c'ho la mappa della città di Clerville cioè è stata realizzata apposta per scrivere diabolic in modo che tu se fai una fuga sai dove sta andando e sai quale congegni di fuga ha nascosto diabolic che però è surreale no? assolutamente sì beh ma lui alla fine è un feticista cioè nel senso lui vuole rubare i diamanti perché gli piace rubare i diamanti no perché ne ha bisogno cioè gli vuole anche perché per avere tutta quella tecnologia lui è ricco è ricchissimo cioè potrebbe tranquillamente godersi i soldi che ha no e ha anche il feticismo di creare i marchi ingegni per la città assolutamente sì certo certo no tra l'altro guarda l'ho proprio apprezzato e poi quello proprio è il momento in cui tu dici ah ok cazzo siamo nel fumetto di diabolic ma non di adesso perché magari adesso è anche un pochino più orientato no neanche e allora tanto meglio secondo me l'ho trovata una cosa simpatica secondo me semplicemente l'analisi postmoderna è che magari ci sono alcune storie dove cominciano con degli operai che stanno facendo dei lavori per conto di qualcuno che non sanno chi è e si pongono delle domande e poi scoprono che stanno lavorando per conto di diabolic tra l'altro tu hai scritto qualche numero com'è che è andata la tua sì sono là sopra sì ne ho scritti una ventina più nero vabbè caspita ancora più difficile scrivere per un personaggio così rigido no? sì è un lavoraccio è più difficile è difficilissimo ma anche perché su diabolic il lavoro è un lavoro collettivo cioè chi fa il soggetto non fa la sceneggiatura anzi è meglio chi ha l'idea non fa il soggetto c'è anche il dialoghista? no il dialogo lo fa lo sceneggiatore però sono io sono stato l'unico che è riuscito a fare idea soggetto e sceneggiatura però di solito la prassi non è questa qua per un numero solo per il resto hai un soggetto che è tutto quello che accade descritto nei minimi dettagli un soggetto che fai di 20 pagine che tu metti in scena sulle 120 di Diabolica due strisce ho una domanda sui fumetti in cui hai scritto adesso io cito quelli più famosi anzi quelli che ho letto anche se poco Zagor Martin Mister Dampier si dimmelo se sono anche cioè ci sono anche dei fumetti che hai creato tu però ah beh si ho fatto Long Way che era quello di arti marziali no? quello di arti marziali ispirato a tutto il cinema di Hong Kong ho fatto Milano Criminale Pulp Stories all'epoca eri un po' fanatico dei polizioteschi no? ma non sono ancora cioè i polizioteschi mi piacciono tanto ogni tanto mi rivedo qualcosa perché per quel momento storico lì è stato proprio cazzo tu guardavi un poliziotesco italiano poi guardavi Callaghan ed erano allo stesso livello è come se oggi il cinema italiano riuscisse a fare Inception fondamentalmente cioè cosa impossibile beh il poliziotesco forse era un po' più po' più crudo però il poliziotesco italiano perché io mi ricordo che da bambino mi capitava di incrociare certi film mi spaventavano molto e ci sono delle scene belle crude in alcuni momenti tipo in Milano odia polizia non può sparare cioè ci sono delle situazioni di stupro che sono un po' pesanti mettiamola così però nel senso erano molto però si hanno cresciuti bene lo stesso dai erano molto realistici molto realistici molto e ti volevo chiedere a parte Dylan Dog che ripeto esce a fine mese compratelo il nuovo Dylan Dog disegnato a Corrodoroi è scritto da Diego Caielli che tornerai a scrivere Diabolic possibilmente ci sono in ballo cose cioè nel senso uscirà un altro Dylan Dog se uno speciale dovrebbe uscire intorno a novembre credo mi è stato chiesto di scriverne un altro sto elaborando la storia adesso in questi giorni qua ho buttato giù un po' di idee uno ha detto lavora su questa per cui cioè sto cercando di elaborare questa storia qua dopo Luca dovrebbe uscire una graphic novel che ho fatto vai a Luca? non lo so ancora non lo so me lo devono confermare o no comunque seguite tutti Diego su Instagram su dove è che ti devono seguire? Instagram e Facebook Instagram e Facebook così se andate a Luca e lui va a Luca lo andate a salutare guardate ho visto la live mi sono un attimo arenato su Instagram perché non ce l'avevo voglia devo fare troppa roba cioè quindi lavorerai ancora su Dylan dovrebbero uscire due mie Martin Myster e un Drago Nero Drago Nero non lo conosco è un fantasy ok adesso sei diciamo quasi tornato alle origini o hai anche altri progetti extra fumetto no in realtà di extra fumetto sto seguendo Zelig per cui la prossima edizione ci sarò anch'io tra gli autori e sto cosa sto facendo l'altro no basta anche perché voglio dire la giornata è di 24 ore uno però bisogna fatturare figa eh sì fatturare comunque volevo chiederti ma com'è scrive cioè come si scrive un pezzo scusa tu scrivi un pezzo o scrivi delle battute cioè come funziona scrivere per un comico allora scrivere per i comici è un lavoro completamente diverso dallo scrivere per i comici nel senso il comico arriva in genere con un'idea un qualcosa di cui vorrebbe parlare e non si scrive assieme fondamentalmente arriva anche con una battuta che però gli sembra che non funzioni e tu lo aiuti lo aiuti a sistemarla o gliela migliori gliela oppure dice qua servirebbe una battuta allora facciamola mettiamocela cioè nel senso le situazioni caspita ma guarda che c'è questo mi impressiona tantissimo perché l'umorismo io sono dotato di umorismo no però solo in modo assolutamente naturale cioè colgo colgo l'occasione per fare una battuta ma non potrei mai mettermi a tavolina a scrivere una battuta quindi mi impressiona quello che fai tantissimo io cerco di essere il più aderente possibile allo stile comico del comico o della comica in questione cioè di usare quelli che sono i suoi sistemi e i suoi archetipi cioè cerco di essere in visita ti trasformi un po' nel comico cioè ti immagini essere lui che si muove nel palco e ti vengono le battute ma tipo cammini per la casa anche no in genere io scrivo dormendo cioè queste cose qua facendo allora il concetto è che c'è chi fa le live dormendo cioè se nessuno si accorge che c'è il mio zantino ho vinto cioè nel senso il mio lavoro deve essere invisibile in quel momento lì in quel campo lì anche perché ovviamente mia moglie mi manda i messaggi vocali sapendo che sono in live quindi come farò a sapere cosa dice no sì sì no è chiaro che poi c'è anche questo discorso del uno attribuisce la battuta al comico quindi non si deve io non devo esserci se no uno dice sì vabbè ma è come l'uttazzi che le copiava se aveva un motore bravo non aveva bisogno di copiarle tra l'altro mi fa venire in mente un uomo meraviglioso che io amo che è Bill X che ritengo fosse veramente una delle una delle dieci persone migliori nate su questo pianeta da sempre secondo me perché è riuscito a usare la comicità per veicolare messaggi importantissimi lo trovavo veramente avanti ti sei frizzato un attimo però ho introdotto dalla tua conclusione ok sì no X era era un figo era un figone è giusto dire che è un po' il capo di tutta la nuova stand up comedy cioè quello che la o c'erano anche posso darti un consiglio allora non non introduciamo troppe dogmi sulla stand up comedy se no ci fanno un culo così cioè ah ok c'è un grandissimo nerdume anche qua mamma mia molto più di quello che pensi no allora ragazzi scusate avete ragione ma non dico un cazzo non volevamo parla di horror è un canale horror non ne capiamo un cazzo scusate sì veramente anche se però parliamo di cioè ci piame ci piacciono ci piacciono le horror comedy tantissimo quindi quando sono fatte bene ci piacciono parecchio ok io ti volevo ciavo la domanda progetti futuri ma te l'ho te l'ho già fatta ok non lo so hai qualche domanda tu su twitch che vuoi fare e come sono quelle che hai chiamato prima aspetta com'è che li hai chiamati grazie per i 100 bit eh come sono i bit sono 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 la moneta sono una moneta di twitch che servono serve per tifare il lo streamer quindi qua allora ci sono ci sono varie forme di gamification che sono legate a dei punti canale che le persone guadagnano stando in live e poi li possono spendere chiedendo delle cose poi ci sono gli abbonamenti tra l'altro adesso lo ripeto così anche ragazzi se volete abbonarvi abbonate vi faccio anche un po' di call to action per vendere un po' i miei abbonamenti con prime possono abbonarsi gratuitamente a un canale ok se no possono pagare 4 euro e abbonarsi al canale oppure possono regalare abbonamenti che è un'attività che alcuni miei spettatori fanno e li ringrazio tantissimo perché aiutano un po' a far capire anche agli altri che abbonandosi si mantiene viva vivo il progetto vivo il canale eccetera ti faccio un esempio io comunque sai che faccio l'art director lavoro in ufficio come da impiegato da anni tutto il giorno la sera vengo qua streamo tre volte a settimana tre ore quindi immagina che bordello e mi preparo comunque anche le live quindi è veramente un secondo lavoro faticosissimo quindi il supporto è fondamentale perché più io lo percepisco come un lavoro un vero lavoro e più rimane vivo perché poi arriva il giorno in cui dici no ok senti non ce la faccio più e quindi va bene invece così chiaramente acquisisce un'importanza per me e anche per chi segue secondo me niente io non lo so veramente avevo no beh ti ho chiesto di tutto ti ho chiesto il codice fiscale me l'hai detto cjldg secondo me le persone no la privacy la privacy no non ti ho chiesto della radio non ti ho chiesto della radio che volevo chiedertelo la radio la portiera tra l'altro bianchi è ospitato per qualche minuto telefonicamente ti ringrazio com'è l'esperienza della radio l'avevi già fatta prima io in radio ho fatto praticamente lo stagista quando ero ragazzino con terrore e diciamo paura la notte dell'irruzione alla Diaz io ero in radio in diretta nel 2001 per me è stato un momento fondamentale della mia formazione fondamentalmente poi da lì sono andato via a fare altre cose e sono tornato quest'anno fondamentalmente dove ci sono altri stagisti che passano da lì e abbiamo fatto questo programma che è andato molto bene adesso si è concluso perché ha ripreso il programma il palinsesto il palinsesto normale ma lunedì abbiamo una riunione magari vediamo di fare qualche altra cosa nel frattempo sicuramente magari farò un altro podcast adesso vediamo un attimo cosa c'è da fare tu fai un sacco di cose chiaramente perché ti piacciono ma anche per fatturare giustamente come è giusto che sia però se anche mi sembra aver capito non riesci a star fermo no assolutamente cioè se mi stai dicendo guarda mi avanza mezz'ora mentre sono sul water faccio un podcast sai tipo no il concetto è che se mi fermo ma alla fine non è male che se ne risolvi i soldi sono solo però secondo me io me lo sto chiedendo perché anche io faccio tante cose male ovviamente non come te però cazzo secondo me dobbiamo darci una calma sì perché non abbiamo più l'età cioè quando l'avevamo non avevamo voglia di fare un cazzo era un po' così è vero quella è la grande verità io guarda siccome ho fatto un bel 51 anni quest'anno cioè sono sei un ragazzino sono un ragazzino sono abbondantemente così ho deciso che me ne do ancora 10 a 61 magari mi siedo a bere un cocktail e vediamo com'è andata me la ragiono così allora io intanto ti ringrazio per tutta la chiacchierata che è stata esattamente come volevo non so come sono riuscito a tenere un filo però sono contento perché abbiamo parlato di tante cose perché tu fai tante cose e sai tante cose sono contento di essere il primo a averti portato su Twitch vedrai che poi questa piattaforma esploderà non ci entrare perché sennò hai un'altra cosa da fare vieni qua guarda no ma io ti dico allora devo dire la verità hanno donato poco avrei voluto un po' più abbonamenti allora a quel punto avrei detto cazzo ma se mi donate così tanto allora chiamo ancora Diego no a parte gli scherzi se ti va di venire qua grazie mille Iliosi o vedi che l'ho detto e mi hanno subito accontentato grazie Iliosi per i 100 bit e magari parliamo la prossima volta parliamo boh di horror di più invece che parlare di me parliamo di horror però sai che cosa io quando parlo di horror alla fine finisco sempre per parlare di psicologia di società no no per dire che comunque in realtà oggi abbiamo fatto quello che facciamo sempre cioè parliamo di storie di emozioni cioè per me l'horror è un pretesto per parlare di questo e far capire quanto appunto l'arte veicoli questo e poi stare troppo a parlare io dico sempre parlare della qualità del film quando nessuno di noi è direttore della fotografia cioè io per esempio comunque faccio comunque un lavoro che è legato al visivo e sono un art director ok quindi ho qualche strumento in più però sentire la qualunque parlare di cose tecniche è un po' assurdo anche secondo me anche alcuni critici dovrebbero un pochino su certe cose tirare il freno perché io parlo parlo tanto con registi anche indipendenti però anche di livello un po' più alto e mi rendo conto veramente che farli i film è un'altra cosa cioè è proprio un'altra cosa capire veramente quali sono le difficoltà i costi i tempi le problematiche cioè devi essere lì sul campo e vederlo e quindi cerco di veicolare sempre la discussione su quelle che sono i messaggi trasportati dal film quindi le storie quindi oggi fondamentalmente avendo parlato tanto di storytelling di storie eccetera abbiamo fatto un contenuto del canale però potremmo adesso te la butto lì magari no potremmo se vuoi parlare del film che mi hai detto prima le sette come che si chiama la croce delle sette pietre la croce delle sette pietre perché lo devo recensire va bene secondo me ti diverti ti diverti quindi magari ti butti dentro in live con me se sei tempo e così mi spieghi perché cioè almeno io lo guardo poi tu mi spieghi perché in realtà è un film che ha una buona struttura cioè mi hai detto che è trash ha un soggetto è un buon soggetto scusa è un buon soggetto ma è un casino grazie al capo di 100 bit va bene ti insegno l'ultima cosa del canale che è il ride anzi di solito chiudo la live da solo ma stavolta ti tengo qua fino al ride praticamente su Twitch funziona così tu mandi i tuoi spettatori alla fine della tua live da qualcun altro ok quindi nelle live che sono quindi adesso lo devo scegliere guardo se c'è qualcuno che mi sta simpatico ok sì c'è Anna andiamo ad Anna cosa fa Anna Anna allora lei tratta argomenti tutti legati al mondo LGBT ah va bene ok quindi insomma commenta dichiarazioni di politici articoli fatti di cronaca è molto lo fa in modo molto serio è molto bravo allora intanto saluto tutti quelli della chat perdonatemi se oggi ho scammato un po' di messaggi scammato significa nel termine da giovani che non voglio sapere l'etimologia da dove posso significa saltare dei messaggi quindi non rispondere ad alcuni messaggi perdonatemi ma quando sono in live con qualcuno un po' vado in palla allora faccio partire il ride scusami un attimo ok ok ragazzi tutti nel ride entrate e salutate Anna grazie mille per essere stati qua con me seguite anche Diego Caglielli sui suoi social comprate tutti di Landog soprattutto fatevi la foto e mettete la storia e taggatelo e taggate Bonelli insomma sono modi per per tenervivo e pubblicizzare fare pubblicità gratis con un minimo impegno grazie mille Diego grazie spero di riaverti presto è stata una bellissima cacchierata questo video poi lo carico anche su YouTube così si può rivedere va bene grazie mille ciao grazie ciao buona serata ciao ciao ciao